I concorsi promossi dalle forze armate o dal complesso delle grandi aziende del complesso militare industriale, con nomi sempre più accattivanti, proponendo progetti che ovviamente divertono, interessano. C'è una controffensiva. Quest'anno è il centesimo anniversario dell'aeronautica militare italiana. Sono partiti appelli alle scuole, oltre alle visite, accelerare anche la presenza in questo matrimonio tra la scuola, le attività educative e scolastiche e questo grande emblema dello sviluppo e della cultura italiana che sono le forze dell'aeronautica militare italiana. Ma credo che se stiamo attenti alle circolari che ci vengono proposte o che vengono tranquillamente proposte nei siti delle nostre scuole, ci accorgiamo che c'è sempre un'ulteriore offerta, con un fatto grave, che non c'è scuola che non stia o che non abbia svolto attività con le forze armate, ma il 90% degli insegnanti di queste scuole neanche lo sa. E questo voglio ricordare da collega a colleghi, perché ancora mi capita di parlare con i colleghi, io ricordo che qualsiasi di queste attività, qualsiasi attività didattica, qualsiasi presenza esterna all'interno di una scuola, qualsiasi uscita della scuola in qualsiasi struttura, deve essere discussa nei consigli di classe, se interessa la classe, deve essere discussa e approvata nei colleghi dei docenti. Questo lo dico perché raccogliendo sempre più informazioni su quello che avviene nelle scuole italiane, scopro con sempre più amarezza che nel 90% dei casi queste attività non sono passate dai colleghi dei docenti. Tra l'altro, anche su questo offro un input di analisi, io non ho le idee chiare, sto cercando di analizzarle, di studiare, di studiare con giuristi, di studiare con avvocati, di studiare, ma personalmente ho il profondo sospetto che non ci può essere collegio dei docenti e consigli dell'istituto che possa deliberare e approvare attività, soprattutto quando parliamo di scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole medie di primo grado e perlomeno fino ai 18 anni, attività di relazione tra le forze armate e la scuola. Perché qualsiasi di queste attività, anche quella che sembra la più innocua, faccio venire i Marines a fare attività sportiva e ginnica all'interno della scuola, è ovviamente un'attività di propaganda, è un'attività di mistificazione su quello che è il ruolo combattente. Quando io faccio un'attività ludica, quando io porto i ragazzi a giocare all'interno di un impianto, all'interno di una base militare, io sto commettendo una grande mistificazione perché faccio apparire ai ragazzi normale la vita militare, faccio apparire la vita militare fatta di partite di calcio, di partite di gravi eccetera, quando l'attività militare è ben altra. Dicevo rispetto alla questione del diritto costituzionale, del diritto interno e del diritto internazionale. Io vorrei ricordare che le forze armate vengono citate nella Costituzione soltanto una volta e vengono citate a difesa della patria, cioè non vengono citate come organizzazione che ha funzioni di ordine pubblico o peggio ancora che abbia funzioni didattiche, educative, formative eccetera. Per cui ritengo che già si stia violando un principio, al contrario sono due gli articoli che riguardano l'istruzione e l'istruzione è sempre in funzione di quelli che sono gli undici principi chiave, che sono la giustizia sociale, la promozione della persona e le libertà che vengono riconosciute. E' ovviamente l'articolo undici di ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. Ma l'Italia ha firmato e ha adottato convenzioni internazionali, a iniziare dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo, in cui il valore della pace è un valore portante, è il ripudio della guerra, ma soprattutto il valore dell'istruzione in funzione della difesa dei diritti, della giustizia, delle libertà e della pace è fondamento della dichiarazione dei diritti. Ma noi siamo andati oltre, noi abbiamo firmato e adottato il protocollo internazionale della difesa dell'infanzia, dove proprio il diritto all'istruzione e nella promozione dei valori della convivenza e della pace è un fatto portante. E visto che il diritto internazionale si era posto il problema della sempre più attività di pressione, soprattutto nei paesi del sud del mondo, delle forze armate rispetto all'infanzia, per cui il bambino non soltanto principale vittima dei conflitti, ma il bambino che diventa attore protagonista, carnefice dei conflitti, nel momento in cui il bambino viene cooptato all'interno delle forze armate. Per questo che dopo il protocollo fu adottato un protocollo aggiuntivo proprio di bando delle relazioni tra le forze armate e l'infanzia, dove c'è un divieto alle attività di propaganda, di cooptazione dei giovani all'interno delle forze armate. Voi mi direte, ma nessuna cooptazione, se vengono a parlare di violenza sulle donne, se vengono a parlare di alimentazione, dov'è la cooptazione? Dov'è la cooptazione? Il momento in cui faccio apparire le forze armate, che per Costituzione italiana hanno soltanto una funzione, non quella della guerra, eventualmente in caso di aggressione la difesa del Paese, perché di questo si tratta nella Costituzione, io sto mistificando, sto offrendo un'altra immagine completamente differente, anzi falsa, di quello che è il ruolo delle forze armate. Peggio ancora se consento alle forze armate di poter fare narrazioni di storia. Nelle scuole si stanno moltiplicando attività di gemellaggio con bambini del Libano, con bambini in Iraq, quando c'eravamo in Afghanistan, con bambini in Afghanistan. Sono partiti i progetti di gemellaggio con i bambini del Niger, in cui l'attore, il promotore, il soggetto che tiene le relazioni tra i bambini italiani e i bambini nigerini sono le forze armate, esattamente le forze armate che abbiamo inviato, a mio modesto parere, in violazione anche questa volta della Costituzione, per missioni che non sono missioni di pace, ma che sono missioni spesso dettate da interessi o del complesso militare industriale o delle trasnazionali dell'energia. Il caso Niger, il caso Iraq è evidente. E allora ovviamente stiamo commettendo, a mio modesto parere, oltre che delle violazioni anche dei crimini, perché stiamo violando l'innocenza dell'infanzia che dovremmo proteggere. E' la scuola che deve assumersi la protezione dell'infanzia anche da attività subdole di mistificazione della storia, di mistificazione della realtà e di valori. Mi si dice, anche ieri ne parlavamo con Giovanna, ieri sera, probabilmente Torino, probabilmente il Piemonte, è soltanto in seconda battuta. Ci sono realtà che stanno vivendo maggiormente la pressione. Scusate, vi chiedo scusa, una notizia di ieri, per capire anche come ormai consideriamo normale la presenza delle forze armate e anche la presenza dei blitz delle forze dell'ordine all'interno delle nostre scuole. C'è stato un blitz ieri, avanti ieri, a Piazza Armerina, provincia di Enna, da parte delle forze di polizia, intervenute per identificare i rappresentanti del Consiglio d'Istituto degli studenti che avevano avuto l'ardire, con l'autorizzazione della dirigente scolastica, di organizzare un'assemblea di valutazione e di discussione sull'uso delle droghe leggere sulla cannabis. Le forze dell'ordine accusate hanno dichiarato che si trattava di una normale attività, anzi, una attività rutinaria, di routine, di controllo all'interno delle scuole. Io vi chiedo, da insegnante a insegnante, come sia, ecco, nel linguaggio è normale che le forze dell'ordine, oltre a intervenire a fare le attività formative ed educative, sia normale che possano entrare nelle nostre scuole a fare blitz. Un giorno vengono con i cani a controllare gli zainetti dei ragazzini per trovare una canna, creando tra l'altro un modello che allontana sempre di più, perché poi gli effetti, al di là delle questioni di valutazione, di legittimità e di legittimità, ovviamente trasforma sempre più la scuola in una caserma, e poi non ci lamentiamo se la sfiducia dei giovani rispetto anche la scuola, rispetto ai valori fondanti della scuola, cresca, perché poi le differenze, la linea di demarcazione da quello che dovrebbe essere una caserma e quella che invece dovrebbe essere la scuola come momento di socializzazione, di valutazione, eccetera, viene cancellata. Dicevo, il Piemonte e questa provincia non è assolutamente secondaria ai progetti, ve ne elenco alcuni anche per capire anche la gravità e anche, come potrei dire, anche nel modo subdolo con cui si entra nelle scuole. C'è un progetto che si chiama Alpini a scuola, educare al bene comune, ossia gli alpini, sia l'Associazione Nazionale Alpini, ma la brigata taurinense, brigata che in questo momento è una delle brigate di pronto intervento schierate nello scacchiere dell'Est Europa, in questo movimento a Tenaglia deciso dalla Nato rispetto alla guerra in Ucraina, ebbene che vede la presenza degli alpini nelle scuole primarie, cioè non riguarda, cioè è in cui l'alpino, che sapete ovviamente vivendo in questa realtà, sapete la narrazione che viene fatta, buonista, dimenticando il ruolo e soprattutto i drammi vissuti dagli alpini nella prima, nella seconda guerra mondiale, per cui si dimentica il ruolo e anche le sofferenze di questi reparti, lo si trasforma in un personaggio divertente, simpatico, al punto che lo si porta a scuola il nonnino da far conoscere ai bambini. Stanno aumentando i campi scuola-estivi in cui i ragazzi vanno a svolgere attività dei campi con gli alpini. le attività sono dall'alza bandiera, storie e compiti del truppo alpine, leggo esattamente il programma dell'ultimo che si è svolto in Vallestura, primo soccorso, topografia, orienting e trekking, montaggio tende e però poi si arriva comunicazioni radio, utilizzo dei droni, mostre statiche dei mezzi militari. Per cui un'attività che sembra un'attività come quella che abbiamo fatto tutti, che fanno gli scout, eccetera, però poi viene finalizzata alla conoscenza militare. Nel maggio del 2022 la città di Torino ha ospitato col patrocinio del comune il momento clu, il momento finale del laboratorio nazionale della cyber security, promossa dal comitato, dal consorzio interuniversitario per l'informatica, ma che era diretto agli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia. Praticamente si fanno delle attività, si chiamano holy cyber, le olimpiadi del cyber, i cyber trials, cioè delle sfide in cui ci si combatte cercando di colpire, vengono definiti dai promotori hacker etici, colpire l'avversario, le debolezze informatiche dell'avversario. Sono concorsi in cui lo scorso anno hanno partecipato in Italia trecentododici istituti e millesettecento studenti. Le finali si sono svolte, ripeto, a Torino. Vi invito a entrare un progetto promosso, ovviamente, dal Ministero dell'istruzione, ma che vede tra gli sponsor le più grandi aziende trasnazionali e italiane delle guerre cibernetiche. Cisco, Telsi e anche Leni, perché ovviamente Leni ha anche grossi interessi su quello che riguarda la finanzializzazione di questo sistema. Il Politecnico di Torino ha un ruolo fondamentale in un progetto che si chiama Donne che fanno la differenza. Uno si immagina di promozione della figura femminile, probabilmente pone enfasi sull'uguaglianza di genere. No, si tratta anche questo di un progetto destinato alle studentesse, agli studenti di tutta Italia di promozione anche questo della cyber security degli hacker etici e di questa maledetta formula che la ritroviamo in tutti i progetti che andiamo ad approvare compreso Scuola 4.0 dello STEM che sapete è questo acronimo con cui ormai la scuola si è cancellando la centralità dello studente, la centralità della formazione della promozione umana e invece la centralità delle scienze della tecnologia dell'engineering e delle scienze matematiche. Su questo consentirei di aprire perché questa questione della pressione è quanto cinque minuti cinque minuti e diciamo cinque minuti dai perché così allora quanto quello che sta accadendo io non so quanti sappiate Leonardo S.P.A. che è l'holding strategica del complesso militare industriale italiano da qualche anno sta investendo enormi risorse finanziarie per promuovere progetti di formazione degli insegnanti ovviamente degli insegnanti delle scienze matematiche tecnologiche per predisporre pacchetti predisporre unità didattiche e soprattutto si è lanciato in quello che è quest'anno un progetto sperimentale vedo una scuola un normale liceo romano che è stato denominato dal ministero dell'istruzione primo liceo digitale è un liceo in cui io vi invito a entrare vi invito a leggere le attività che vengono svolte cyber security droni automatizzazione intelligenza artificiale ma ha una caratteristica in più questo liceo della digitalizzazione ripeto è un progetto cofinanziato da Leonardo Leonardo ha predisposto anche i programmi ha predisposto e offre anche parte del personale insegnante è un liceo comune ed è un progetto sperimentale che molto probabilmente dal prossimo anno sarà esteso a una ventina di licei in tutta Italia probabilmente uno per questo progetto ha un salto di qualità perché noi spesso pensiamo avevano fatto fuori le materie umanistiche cioè andiamo verso le logiche delle digitalizzazioni eccetera cancellando la storia la filosofia che è quello che è avvenuto realmente no stavolta Leonardo fa un'operazione come potrei dire molto intelligente cosa ci dice e no la filosofia è una scienza è una materia fondamentale che non può essere relegata al terzo quarto e quinto anno gli studenti del liceo digitale di Roma fanno filosofia dal primo anno ma è una filosofia scusatemi il verbo prostituita sì alla logica dell'automatizzazione per far passare il principio che le intelligenze artificiali i droni le scienze tecniche matematiche la digitalizzazione è il futuro la filosofia deve prepararsi a interpretare a narrare a predisporre quello che è il futuro e ovviamente questo comporta la disumanizzazione della filosofia ma la disumanizzazione anche di quelle che sono queste scienze a Torino si è fermato il qualche si è fermato il 5 di ottobre questo treno del milite ignoto è da due anni che le ferrovie Trenitalia è lo stato maggiore dell'esercito ripropone quello che fu fatto cent'anni fa quando partì dal dal Friuli il treno con il milite ignoto e fu portato all'altare della Padria da due anni si fa lo si fa girando tutta l'Italia e anche la Sardegna te lo dico anche utilizzando le navi che sono state cancellate vi ricordi quelle che da Civita Vecchia lui è un ex ferroviere per cui conosce esattamente questo tipo di modello in cui viene riproposta anche le carrozze di cento anni fa con l'urna del milite ignoto questa attività è rivolta proprio agli studenti d'Italia quando si fermano le scuole le scolaresche di ogni ordine e grado vengono portate a onorare il milite ignoto con parole d'ordine che sono nuovamente la patria la nazione la bandiera esattamente quelle tre parole su cui il fascismo ha costruito soprattutto negli ultimi dieci anni tra la guerra e poi particolarmente in vista dell'attacco all'Etiopia e della seconda guerra mondiale il binomio libro e moschetto fascista perfetto della fascistizzazione c'è una cosa che riguarda particolarmente Torino di questa vicenda perché due anni fa fu pubblicato dallo Stato Maggiore dell'Esercito un fumetto destinato ai ragazzi che ricostruisce la storia del milite ignoto c'era il covid per cui questo fumetto è rimasto nelle cantine del Ministero è uscito quest'anno è distribuito in decine di migliaia di copie ai nostri bambini io vi invito a vedere questo fumetto lo trovate nella pagina dello Stato Maggiore mettete fumetto del milite ignoto è un bruttissimo dal punto di vista grafico ma non è questo il problema è che nella narrazione di esaltazione della patria eccetera vengono esaltate due figure storiche una figura il generale Dowett a cui è dedicato una scuola superiore a Firenze dell'esercito è il primo teorico mondiale dei bombardamenti aerei sulle popolazioni civili come modalità per ridurre i tempi delle guerre normali un crimine lo sappiamo perché è un crimine del diritto internazionale perché sappiamo che i civili sono le prime vittime ma formalmente il diritto internazionale lo vieta lui è il primo teorico perché viene ricordato prego generale Dowett D-O-H-U-E-T Dowett c'è una scuola dedicata in Italia una scuola dell'esercito a Firenze non ricordo il nome il nome di Battesimo perché viene ricordato in questo fumetto perché è il generale dell'aeronautica che propone al paese di istituire la figura del militegnoto poi c'è una figura torinese anzi piemontese che però è eletto nel collegio di Torino che è il Cesare Maria De Vecchi che è il primo parlamentare che firmo la proposta di legge per finanziare il militegnoto eletto a Torino è uno dei quadrumbiri della marcia su Roma è il primo governatore italiano fascista nella Somalia occupata creando anche grosse difficoltà a Benito Mussolini e al genero al punto di essere richiamato urgentemente a Roma per i crimini commessi con la popolazione in Somalia poi nell'ultima fase a quello a cui il fascismo delega le relazioni col Vaticano in vista della firma dei patti lateranensi è che negli ultimi anni diventerà ministro dell'istruzione istituendo l'alza bandiera voi sapete che quest'anno una scuola di ogni provincia è stata da autorità prescelta dall'ufficio scolastico provinciale per festeggiare il primo giorno di scuola con l'alza bandiera l'inno nazionale e la presenza delle forze armate all'interno della scuola è accaduto in tutte le province non era mai accaduto riproponendo ripeto questo modello del fascista dei vecchi per cui attenzione che i processi di militarizzazione rappresentano anche una rivisitazione della storia anche del fascismo una rilegittimazione di cose che violano la stessa costituzione italiana potrei andare oltre e chiudo ma proprio per il ruolo di questa regione dove vivono buona parte delle grandi industrie militari penso il gruppo Leonardo presente in questa provincia presente nella provincia di Novara con Cameri vi invito a vedere quante sono le scuole che sempre più si affidano dell'alternanza scuola-lavoro con le aziende legate la Hermacchi l'Agusta l'impianto di Cameri dove sono realizzati gli F35 che hanno rappresentato forse l'emblema dell'attacco alla scuola perché per comprare quei cacciabombardieri c'è stato un taglio spaventoso alle spese sull'istruzione ai nostri stessi stipendi all'impossibilità che i nostri stipendi tenessero minimamente l'esplosione dell'inflazione tra l'altro il polo di Cameri non è soltanto il polo attrattivo delle scuole piemontesi e lombarde per l'alternanza scuola-lavoro è il polo attrattivo di tutta Italia ad Aragusa un istituto aeronautico ha avuto come ha avuto la brillante idea di far svolgere il viaggio premio agli studenti più meritevoli dell'indirizzo andando a Cameri andando ad assistere all'assemblaggio dei cacciabombardieri F-35 e sono arrivati alla base di Cameri all'interno di un aereo cargo dell'aeronautica militare italiana decollato dall'aeroporto di Sigonella questo avviene alle scuole italiane e di fronte a questo consentitemi abbiamo penso tre doveri primo dovere come insegnanti ce lo ricordavi hai fatto benissimo con Lorenzo Milani cioè l'obbedienza non è assolutamente mai stata una virtù ancora a maggior ragione oggi non lo è più una virtù dobbiamo disobbedire il momento in cui vengono anche violate le norme viene violata la Costituzione non possiamo più consentire la nostra cecità o la nostra indifferenza o la nostra incapacità di attenzionare quello che sta avvenendo con le conseguenze devastanti per il modello di istruzione e per il modello scolastico sono già si stanno moltiplicando gli atti di protesta all'interno dei consigli all'interno dei collegi dei docenti sta nascendo un osservatorio sui processi di militarizzazione sarà lanciato nei prossimi giorni alla Camera dei Deputati giovedì nove a Roma verrà lanciato questo facendo appello a tutto il mondo della scuola a denunciare quando gli insegnanti o gli operatori o le organizzazioni sindacali di base hanno avuto prontezza di queste attività e hanno fatto le diffide ai dirigenti scolastici spesso queste attività sono state cancellate all'ultimo momento lo sbarco dei Marines in una scuola elementare di Santa Maria di Santa Teresa Riva provincia di Messina immediate denunce nazionali la dirigente ha fatto un passo indietro quando un dirigente scolastico in Sardegna aveva già organizzato un'alternanza scuollavoro di quindici giorni consecutivi all'interno della base di salto di Quir la base più inquinata a livello nazionale dove sono stati sperimentati i proiettili a uranio impoverito quindici giorni consecutivi perché era lontana dalla scuola per cui gli studenti dovevano andare a dormire e mangiare per quindici giorni consecutivi la protesta del movimento sardo ha bloccato questa gita distruzione di formazione qualche ora prima che partisse e poi credo che abbiamo un enorme strumento che è quello di far pensare il bisogno di ricordare che la scuola ha avuto sempre una funzione di promozione dell'individuo ed è su questo che secondo me noi possiamo giocare veramente la scommessa per bloccare per impedire per fare in tutti i modi che queste cose non si verifichino più io credo che dobbiamo costruire una rete tra insegnanti legandoci a quelle associazioni quei gruppi di studio i movimenti no war per porre l'attenzione che se perdiamo la scuola se la scuola si trasforma viene accelerato questo processo di laboratorio della costruzione del modello del consenso dell'obbedienza cieca rispetto alla guerra anche perché attenzione siamo in una fase storica voi sapete che da qualche tempo la Nato sta ridiscutendo anche sull'esercito volontario ridiscute sull'esercito di leva perché il fatto che siamo a un passo dall'olocausto bisognerà immettere nuova carne da cannone alle guerre e i giovani sono ovviamente la parte più appetibile le guerre moderne le guerre automatizzate le guerre che affidano ai droni la vita e la morte affidano hanno bisogno di giovani hanno bisogno di persone reattive per questo diventano anche il target lo chiamano così su cui investire sulla scuola penso che come insegnanti abbiamo proprio il dovere intanto per il lavoro che abbiamo per quello che assumiamo abbiamo il dovere assoluto di impedire questo processo di difendere i nostri studenti e di costruire realmente una visione altra della scuola italiana grazie allora io ringrazio Antonio intanto lascio prendere un po' di respiro anche a voi spero lo facciamo lo facciamo dopo lo proviamo a cercare adesso sì volevo dire anch'io aggiungo solo questo rispetto alla questione degli alpini perché già con qualcuno ne abbiamo parlato questa mattina qui era presente Gastone Cottino io non so quanti lo conoscano è un partigiano che è amico di Nuto Redelli e con lui c'era anche Marco Redelli il figlio e Marco ci ha raccontato che quella giornata cioè il 26 gennaio lì a Nicola Iefis dove c'è stata la battaglia è stata secondo il padre il giorno in cui il padre ha preso coscienza ed è diventato antifascista dopo essere stato diciamo dopo essersi formato all'Accademia di Russia sì di Russia di Cuneo cioè è stata in realtà una giornata terribile tragica vabbè questo era un inciso abbiamo problemi con l'audio su YouTube per questo abbiamo fatto la registrazione sul su Zoom e quindi se cercherete il video lo troverete poi sulla pagina del Sereno Regis lo stiamo registrando adesso quindi un pezzo del tuo intervento Antonio purtroppo è andato perso ci sono stati degli interventi delle chat ci sono dei ringraziamenti c'è Mirella che osserva che già in passato ci sono state manifestazioni diciamo con interventi delle forze di polizia nelle scuole anche dirette agli insegnanti che non si sottoponevano ai trattamenti di vaccinazione e lo sottolinea e Elisa invece ci dice che quest'anno è stato inaugurato l'anno scolastico con un concerto di voci bianche che si è aperto con l'inno nazionale ecco giusto per dare voce un po' a tutti a tutti i presenti e partecipanti prego solo un attimo che le lascio il microfono si dice solo come si chiama grazie sì sono Irene Romeo piacere intanto ringrazio veramente per questa iniziativa perché ce n'era un bisogno proprio come l'acqua e ringrazio chi ha appena parlato Antonio Mazzeo perché come al solito da anni è fonte di enormi spunti rispetto alla riflessione sulla sulle questioni militariste io volevo appunto andare a integrare ad aggiungere allora da un lato colgo l'invito che faceva Antonio dicendo da un lato in quanto docenti dobbiamo essere consapevoli del nostro ruolo ruolo educativo e quindi avere la capacità di opporci di disobbedire ed è fondamentale dall'altro l'invito appunto a metterci in rete e penso che sia proprio fondamentale soprattutto in questa fase in cui appunto il tentativo di atomizzare di dividere diventa sempre più crudo da parte dei governi in Val di Susa io appunto insegno alle scuole superiori in Val di Susa la Val di Susa che è stato un laboratorio di militarizzazione di sperimentazione di esercitazioni militari e così via enorme che tuttora lo è ed è una cosa che va crescendo purtroppo ma a cui continua a esserci una forte resistenza territoriale in Val di Susa da aprile dell'anno scorso è nato un coordinamento di docenti coordinamento docenti Val Susa al quale prendo parte sin dall'anno scorso perché in realtà ci siamo resi conto di come fosse fondamentale trovare un luogo di incontro che fosse costante nel tempo che fosse un luogo di scambio di metodi pedagogici quindi di messe in comune di questi metodi perché possiamo anche credere di essere portatori o portatrici dei metodi più illuminati del mondo ma se poi non li socializziamo perdono assolutamente di valore e di efficacia e proprio sulla base di questi principi abbiamo costituito un coordinamento che da un lato porta avanti appunto un'opera di come dire messa in comune delle pedagogie alternative che conosciamo alternative a quelle della scuola pubblica che diventa appunto sempre più poliziesca e militare e dall'altro è un luogo in cui condividiamo discutiamo insieme dei problemi che riscontriamo all'interno delle nostre scuole nel coordinamento docenti Val Susa ci sono docenti di tutta la valle da Ulx ad Avigliana e di ogni ordine grado anche dalle elementari alle superiori appunto dicevo la valle è un laboratorio di militarizzazione e questo ha spianato la strada per alcune come dire tendenze soprattutto in alcuni istituti in un ultimo uno che è stato diciamo teatro di una spiacevolissima direi vicenda il 10 novembre scorso in cui appunto sto parlando dell'itis di Susa del Ferrari in cui c'è stato appunto un blitz poliziesco all'interno della scuola dove si è finto diciamo la dirigenza scolastica ha finto di mettere di fare un'esercitazione antincendio e con quella scusa ha fatto uscire i ragazzi dalle scuole per poi farli rientrare mentre le classi erano state occupate dai carabinieri dalle forze dell'ordine e ha sequestrato i ragazzi in classe con la collaborazione di tutto il personale amministrativo e c'erano i carabinieri a fare i piantoni davanti alle classi i ragazzi sono stati posti con le spalle al muro e sono stati appunto vabbè perquisiti da un lato dai carabinieri stessi i docenti sono stati fatti uscire fuori dalle classi parliamo di un corpo docenti di centoventi docenti in quella scuola sono stati fatti uscire fuori i ragazzi sono stati fatti alcuni addirittura spogliare c'era un ragazzo che aveva sì era un blitz antidroga è stato dichiarato così successivamente sul momento non erano diciamo il personale docente non era al corrente di quello che stesse accadendo sì sì ok questa scuola voleva appunto per completare il quadro e riagganciarmi a quello che diceva Antonio che secondo me è fondamentale appunto fare rete e denunciare quello che di cui ci rendiamo conto è quello che ci rendiamo conto essere legato appunto a questo processo di militarizzazione l'anno scorso cito alcuni episodi l'anno scorso al Ferrari venti ragazzi meritevoli tra virgolette non meritevoli per studio che è anche discutibile ma meritevoli nel senso che erano i più volenterosi a voler fare questa cosa sono stati fatti salire sugli aerei da guerra dello stormo di Torino in venti selezionati non si capisce bene sulla base di quale criterio ehm eh quest'anno il Ferrari ha partecipato al simposio ehm dei cento anni dell'aeronautica militare intitolato in volo verso il futuro l'episodio del blitz poliziesco è in generale una tendenza di quella scuola io parlo di quella scuola perché ci ha insegnato e perché in questo momento rappresenta eh diciamo tra l'altro la mia preside e quella preside perché ha avuto anche la reggenza di un'altra scuola quindi eh in questo momento regge due istituti della valle una Suse e una Bussoleno c'è una tendenza all'interno di quella scuola appunto a questa cosa di cui parlavi della digitalizzazione della robotizzazione cioè vengono fatti corsi all'interno della scuola su la robotizzazione come ora non ricordo di preciso il titolo sì volevo solo denunciare queste cose perché insomma non ricordo il titolo preciso perché faceva davvero ridere comunque era per i docenti di sostegno decantava la robotizzazione come pratica per volta appunto all'umanizzazione e alla relazione con i docenti con gli studenti che hanno il sostegno quindi niente questo discorso concludo ponendo una domanda se Antonio visto che è anche docente riesce ad aiutarmi o se qualcuno di voi lo sa c'è questo discorso della militarizzazione è possibile anche perché le scuole vanno ad avere sempre più autonomia finanziaria e diventano sempre più aziende esiste questo fondo fondo per l'affido diretto che è un fondo che va dai diecimila ai cinquantamila euro che ogni scuola dispone può disporre non è detto che lo abbia di fatti varia di scuola in scuola che a quanto pare il dirigente di questo fondo può disporre senza passare dal consiglio di istituto neppure né tantomeno dal collegio di docenti ora se qualcuno ha avuto esperienza su questa cosa e sa di cosa si tratta e ne vogliamo parlare perché questo diciamo chiaramente cinquantamila euro sono relativamente pochi però all'interno di una scuola magari anche di paese invece sono fondi grossi che se investiti in una certa direzione possono ecco determinare la linea pedagogica di quella scuola in modo pesante quindi fondi per l'affido diretto grazie Daniela vuoi intervenire va bene sì brevemente io sono una docente sono una collega siccome io sono una docente di materie STEM quindi discipline scientifiche insegno fisica è stato citato così incidentalmente questa cosa dello STEM anche perché appunto nel piano scuola quattro punto zero viene incluso viene diciamo portata avanti questa valorizzazione delle discipline STEM in realtà poi nelle scuole nel corso degli anni e questo lo dico per esperienza diretta le discipline STEM cioè le scienze le discipline scientifiche in particolare sono state tagliate terribilmente cioè soprattutto nelle scuole professionali e tecniche le scienze come appunto conoscenza del mondo diciamo modalità di crescita anche dei ragazzi per quello che è una conoscenza scientifica che secondo me è sacrosanta per tutti deve essere garantita a tutti sono state terribilmente tagliate cioè le classi di concorso di fisica io sono diventata sovranumeraria a scuola perché la classe di concorso è sparita dagli istituti professionali non si insegna più negli istituti professionali fisica non si insegna più negli istituti professionali chimica quindi in realtà si parla di STEM come discipline scientifiche ma in realtà la conoscenza scientifica viene negata soprattutto ai nostri studenti che magari sono in situazioni più di difficoltà come nelle scuole professionali si pensa che la scienza sia qualcosa di superfluo per chi frequenta una scuola professionale quindi dovrà essere indirizzata al mondo del lavoro quindi magari si incentivano adesso non conoscono non ho approfondito questo tema ma magari si incentivano le discipline più tecniche proprio finalizzate all'inserimento del mondo del lavoro a scapito invece di tutte le discipline diciamo di accrescimento culturale che possono essere discipline letterarie umanistiche o discipline scientifiche quindi questa propaganda sulle STEM è anche da valutare appunto con attenzione perché in realtà non è qualcosa che serve ai nostri studenti cioè qualcosa forse che serve più al sistema istruzione e al mondo del lavoro più che ai ragazzi per la loro crescita personale grazie dunque io mi chiamo Giorgio Kuschinski e insegno al liceo Gioberti che è classico e linguistico insegno nel linguistico lingua e cultura tedesca dunque io ringrazio appunto il collega relatore perché molte delle cose che ci hai illustrato sono assolutamente come dici tu sconosciute alla maggior parte di noi sicuramente io da un lato però siccome poi ovviamente ognuno di noi ha delle posizioni dei modi di vedere che si differenziano in piccola parte farei però una distinzione perché altrimenti a mio avviso si mette un po' si mettono troppe cose insieme mentre invece ce ne sono già tante di gravi che forse andrebbero maggiormente messe a fuoco e che cosa intendo dire io personalmente ad esempio non farei un discorso troppo generico mettendo insieme quelle che sono le forze armate con le forze dell'ordine che in un sistema democratico hanno una funzione che deve essere controllata da parlamento cittadini eccetera ma che non sono la funzione di chi è nell'esercito perché io ad esempio sono assolutamente antimilitarista per me un giovane che diventa soldato nel duemila e ventitré è una persona che non si fa scrupoli ad essere un potenziale assassino mentre invece ad esempio non so noi abbiamo dei corsi di educazione diciamo all'uso corretto dell'internet che vengono svolti da la polizia municipale che comunque verrebbe messa in caso in questo calderone da parte di persone che sono assolutamente ispirate a valori democratici eccetera un'altra cosa io sarei per lo scioglimento delle forze armate e si capisce da quello che ho detto prima però sono per il momento un'istituzione riconosciuta anche dalla Costituzione infatti io quando ho fatto il servizio militare perché non mi potevo permettere perché non tutti per qualche motivo si sono potuti permettere di fare il servizio civile perché alla mia epoca bisognava aspettare circa due anni per avere la risposta e poi si faceva il servizio civile che durava due anni quindi ci sono anche persone che hanno bisogno di lavorare che non possono stare in ballo e così e quindi hanno fatto il servizio militare di un esercito completamente inutile e assolutamente superfluo eccetera che non era forse pericoloso come quello di adesso perché i governi di quando io ero giovane con tutte le magagne che avevano rispettavano però piuttosto fedelmente l'articolo 11 infatti l'Italia non si ficcava in queste avventure criminali che sono le guerre e però farei anche un po' una distinzione tra la tecnologia a fini militari e alla tecnologia perché anche lì mi è sembrato con tutto rispetto di fare un pochettino mettere insieme delle cose diverse perché i droni si usano anche per studi scientifici meteorologici naturalistici eccetera e quindi io ad esempio ho letto una parte di questo progetto di cui stiamo discutendo nel nostro liceo a me adesso non entro nel merito ma la cosa che mi ha inquietato e l'ho letta ieri e invito alcuni colleghi a leggere i due progetti che sono stati messi nella bacheca del nostro registro elettronico si parla credo intendendo il linguistico di ambiti dell'e-commerce e del marketing cosa che secondo me nel nostro tipo di scuola non dovrebbero esserci perché sono aziendalistici però per fortuna non legati al secondo me direttamente direttamente al mondo militare secondo me bisogna più che disobbedire bisogna rifiutare e dobbiamo essere molto più attenti in tutte le scuole e spero che noi non abbiamo avvallato senza saperlo progetti collegati con le forze armate che io considero comunque un'istituzione esistente ma che non dovrebbe assolutamente mettere piede nella scuola diversa forse dalle forze dell'ordine in generale e perché c'è il consiglio d'istituto in cui ci sono quattro rappresentanti degli insegnanti quattro rappresentanti otto rappresentanti degli insegnanti quattro rappresentanti dei genitori quattro rappresentanti degli studenti e quindi dovrebbero avere il dovere assoluto di rifiutare non di disobbedire di non far nascere questa deviazione assolutamente veramente schifosa se se ciò avviene e ultima cosa invece che mi ha veramente colpito e mi sembra una cosa che fuori del mondo e della storia questa storia del treno del miletri ignoto cioè è tra il patetico pericoloso propagandistico macabro cioè è una cosa veramente schifosa come questo fumetto come è proprio una cosa raccapricciante come questo fumetto che glorifica due figure una fascista e l'altra che ha teorizzato i crimini di guerra peggiori cioè il bombardamento sulla popolazione civile grazie 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 Giorgio così ci conosciamo grazie di essere venuto buonasera interventi che allargano e come posso dire ampliano le problematiche e oltretutto come è giusto cominciano anche ad analizzarle nei loro risvolti io non so se qualcuno vuole dare una risposta rapida se no proseguiamo le lasciamo sospese c'è Marco che vuole intervenire e quindi aspetta che prendi il microfono le lasciamo sospese per il momento ma le abbiamo ben presenti quello che accade in Valle di Susa intanto pubblicamente chiedo se il coordinamento Valle di Susa può estendersi fino a Rivoli visto che alcuni sono di Rivoli sono anche online e possiamo cercare di unirci perché qualcuno abita magari in Val Sangone quindi vicino a Valle di Susa ma questo è di servizio no porto dell'esperienza della mia scuola per dare un elemento ad Antonio magari lo conosce già non solo l'orientamento lo fanno direttamente le forze armate è natta di Rivoli però parlare mai della scuola poi si finisce anche a processo come Antonio quindi non è il caso sempre di dirlo così in diretta streaming no non sai mai ci sono 18 partecipanti qualcuno magari io mi sono salvato perché non c'è la registrazione esatto magari qualcuno lo so è del ministero dell'istruzione no a parte le battute c'è anche l'orientamento attraverso agenzie orientatrici che offrono i pacchetti alle scuole che sono specializzate nel fare un orientamento sulle forze armate o su professioni ancillari delle forze armate per esempio ti spiegano vuoi fare infermieristiche ma non passi il numero chiuso guarda che il passaggio attraverso le forze armate potrebbe portarti a fare le professioni diciamo sanitario assistenziali nell'esercito adesso sempre per non essere poi querelato non dico il nome della diciamo ente orientatore ma in realtà non me lo ricordo troppo bene ma abbiamo ricevuto questo tipo di informazione a scuola il problema ma sembra volersi sparare nei piedi per parlare di autolesionismo e di prima guerra mondiale e che come docenti ci diamo noi ci seguiamo il ramo su cui siamo seduti perché queste cose nella scuola che è un tritacarne passano in cavalleria come diceva Antonio il 95% dei docenti non sa di cosa si tratti non sa neanche qual è la diciamo il corretto meccanismo attraverso cui devono essere prese le decisioni si ritrova sul registro elettronico domani dalle 10 ai 12 i studenti non sono in classe perché devono esserci gli orientatori si borbotta un po' volevo fare la mia ora qualunque fosse la materia e poi le si fa fare questo perlomeno è ciò che succede nelle scuole diciamo di serie B poi ci possono essere alcune scuole di serie A dove i docenti sono diciamo sufficientemente combattivi per rintuzzare questo sgretolamento cioè la scuola è sempre più un progettificio tra questi progetti ci sono anche quelli di orientamento con le forze armate quindi benvenga l'invito a fare rete perché 5 o 6 docenti per scuola un po' combattivi e critici si trovano con altri 5 o 6 docenti di un'altra scuola iniziano a creare un po' una certa massa anche le zone grigie nei singoli istituti un po' si smuovono grazie ci sono ancora alcuni interventi online c'è chi ci informa che il sistema cinema che si sta realizzando in queste settimane nelle scuole del Piemonte prevede conferenze con militari che parlano di sport a livello agonistico e invitano gli studenti a entrare nell'esercito c'è stato l'invito del prefetto segnalato da Maurizio diciamo il giorno del ricordo affidando ai riferenti di educazione civica il compito di relazionare sulla piattaforma e poi c'è chi ci dice che anche la pulizia municipale per aumentare il dibattito spesso è la stessa che parla anche di altri temi e vabbè e sono certamente ci sono come posso dire sensibilità e sicuramente situazioni complesse da esaminare Pippo puoi comunque c'è un video ma magari lo usiamo se avanza un po' di tempo perché abbiamo degli ospiti e cerchiamo di dare loro lo spazio intanto Pippo sì un'ora e mezza ancora dai grazie buonasera come nella pre-presentazione Antonio ti ha fatto sapere che sono un ex ferroviere aggiungo che di questo lavoro dieci anni li ho fatti in Piemonte in Val Susa quindi diciamo sono mezzo paesano ma solo mezzo perché sono andato via già nell'86 sono in pensione ovviamente ma il periodo che facevi il ferroviere e qua era anche il periodo della costruzione della base missilistica a Comiso che ha visto una grande mobilizzazione nazionale internazionale contrariamente a quello che è accaduto in questi dieci anni che ora vi narrerò della lotta muos succintamente perché quella effettivamente fu una questione che fu vissuta in tutta Italia come una questione di tutti non degli abitanti di questo paese sconosciuto che era Comiso in provincia di Ragusa allora la lotta con il muos muos è un acronimo che significa scusate il mio inglese molto maccheronico mobile user objective system ho detto bene sostanzialmente il muos è un sistema internazionale mondiale composto da quattro basi terrestri con tre parabole ciascuna e ogni base ha un satellite quindi quattro basi quattro satellite più uno di riserva ubicati in punti strategici del pianeta le Hawaii per l'oceano pacifico o indiano no pacifico l'Australia per l'oceano indiano la Virginia per l'Atlantico e la Sicilia per il Mediterraneo e tutto ciò che sta attorno al Mediterraneo è l'Africa Medio Oriente Afghanistan nell'Europa eccetera quindi quando parliamo di questo sistema è evidente che noi stiamo parlando di una normale base militare che si trova in un territorio ma è un qualcosa di molto grosso per cui io potrei intitolare questo intervento è possibile contrastare una base militare americana una base di morte di questa portata noi ci abbiamo provato e ci abbiamo provato con dei risultati abbastanza importanti nei primi cinque sei anni della nostra lotta perché la questione del muos nasce più o meno attorno alla metà del duemila e cinque duemila e sei quando gli americani e devo ringraziare ringrazieremo sempre Antonio Mazzeo che ha avuto sempre le antenne molto dritte e ha non quelle del muos ma quelle sue delle sue orecchie e del suo cervello e ha sempre anticipato la continformazione su certe cose per cui i movimenti gli ex riduci delle lotte accomice eccetera eravamo sul chi va là quando decisero di installare questa base di questo sistema planetario di comunicazioni che serve sostanzialmente a mettere simultaneamente velocissimamente in contatto tutte le strutture militari americane dal semplice soldato col palmare al sommergibile alla base militare con un semplice comando che parte da Washington tutto il pianeta immediatamente lo riceve e si attiva quindi una super arma non è solo un sistema di comunicazione ma un'arma di morte chiaramente che serve a guidare i droni senza pilota che strategicamente per la maggior parte sono dei cacciabombardieri senza pilota oltre a quelli che fanno la spia per poi chiaramente veicolare le informazioni a quelli che detengono i pulsanti per bombardare effettivamente quindi il muos è questo è un pericolosissimo sistema di guerra tra i più avanzati esistenti e il figlio illegittimo delle guerre stellate che erano troppo costose poi ci hanno rinunciato e comunque hanno costruito un qualcosa che in ogni caso conceda agli Stati Uniti d'America un valore aggiunto che nessun'altra potenza ha oggi nel mondo quindi quando si è saputo che questo muos doveva essere installato in Sicilia e doveva essere installato in un primo momento all'interno della base e già ho un mio microfono incorporato doveva essere potremmo farne almeno doveva essere installato all'interno della base famigerata di Sigonella perché negli altri posti sostanzialmente i muos sono all'interno di cittadelle militari però Sigonella essendo una base superarmata con aerei con ordigni molto ad altissimo potenziale sia i tecnici americani hanno studiato la cosa e hanno individuato il rischio che quando queste antenne si mettevano e entravano in funzione con la enorme potenza elettromagnetica che emettevano potevano far innescare gli ordigni presenti nella base perché episodi molto ridimensionati su alcune porte aeree si erano già verificati quindi per evitare che poi Sigonella esplodesse hanno deciso di piazzare il muos in una base poco distante 60 km da Sigonella che è la base NRTF numero 8 di Niscemi che è una base di 46 antenne esistente dai tempi della militarizzazione attorno alla base di Comiso erano tutte strutture di supporto una base nata nel silenzio generale dell'informazione alla popolazione muta perché non c'è una grande presenza militare ci sono solo delle sentinelle ci sono quindi non c'era neanche un impatto diciamo di come avviene in genere nelle grandi strutture affitti alloggi ubriaconi incidenti droga eccetera non c'era niente e quindi all'interno di questa base decidono di mettere il MUOS ottengono diciamo imbrogliando in una maniera viscerale i comuni la regione ottengono le autorizzazioni diciamo grazie anche ad alcuni docenti universitari venduti agli americani che di fisica eccetera che dicono che il MUOS era assolutamente innocuo per cui parte l'iter ma quando poi la continformazione dei pochi elementi che esistevano ancora in Sicilia di antimilitaristi di non violenti eccetera ha messo la pulce nell'orecchio soprattutto dell'amministrazione comunale di questo paese che era una volta la capitale del Carciofo ora è la capitale della guerra il sindaco l'amministrazione ha chiesto delle perizie diciamo di parte e ha invitato tra l'atto due scienziati due ricercatori fra cui uno Massimo Zucchetti qua del Politecnico che sono venuti a spese loro diciamo con rimborso spese gratuitamente hanno letto le carte hanno studiato e hanno chiaramente detto tutto il contrario che cos'è il MUOS quale sarebbe stato l'impatto sul territorio qual era il vero ruolo per cui da quel momento il comune ritira le autorizzazioni cresce un movimento e che nasce la lotta contro il MUOS questa lotta a questa primissima fase è una lotta molto confusionaria perché vi convergono situazioni anche allucinanti complottisti quelle delle scie chimiche ovviamente si prestava un po' a tutto elementi della destra fra virgolette ambientalista quelli di fare verde per esempio la galassia separatista siciliana e poi tutta la sinistra reduce da 68 quelli della lotta di Comis eccetera eccetera e poi c'è una fase che è confusionaria ma ha un ruolo importante perché la raccolta delle firme l'informazione riesce a fare crescere soprattutto nel territorio della Sicilia sud orientale decine e decine di comitati popolari comitati non MUOS che decise a combattere il MUOS il problema qual è che a un certo punto superato questo momento di grandissime informazioni in cui non ci fu un'amministrazione comunale che non deliberò l'opposizione al MUOS molti comuni misero i legali per contrastare anche a livello giudiziario questa impresa perché parliamo di una base degli Stati Uniti non della Nato tra l'altro statunitense misero anche gli avvocati eccetera quindi superata questa parte si doveva fare qualcos'altro e a un certo punto in questo movimento molto eterogeneo si posero vengono tutta una serie di nodi al pettine per cui c'era chi diceva ah per noi se lo tolgono da qui e lo portano per dire a Bussoleno faccio un esempio o a Canicaltì per noi va benissimo quindi non nel mio giardino c'è chi diceva a noi ci interessa solo l'impatto sulla salute se ci spiegano che non ci sono rischi per la salute a noi vabbè quelli che non interessano solo agli voli degli uccelli che potrebbero essere contrastati dalle onde tutta una serie di questioni abbastanza legittime che però diciamo non riuscivano a creare un movimento che a quel punto doveva entrare in azione per cui ci fu una rottura ci fu una rottura su cose semplici la parola compagno e compagno che succede? hai perso? no hai perso? allora non c'è se guarda in banderia non riuscire a 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 ci siamo? sì quindi ci fu una spaccatura che mai spaccatura è stata così diciamo positiva perché nella chiarezza ogni troncone ha continuato per la sua strada però senza ostacolarsi a vicenda perché lì si andava avanti uno tirava il freno a mano e l'altro pigiava l'acceleratore stavamo bruciando il motore e a un certo punto eravamo sempre fermi per cui si è scelta questa cosa tutto diciamo il grosso di dei comitati era quello che inseriva in questa situazione il discorso della guerra il discorso della militarizzazione dei territori il discorso che andava contestato il muos sì per la salute sì per gli uccelli sì per tutto perché era dentro una sughereta sito di interesse comunitario eccetera eccetera svendrata ma c'è anche il problema del militarismo che è una base di morte che condizionerà maledettamente come fa già Sigonella e tutte le altre basi il futuro dei siciliani della Sicilia per cui sì l'impatto delle onde elettromagnetiche che potevano provocare le uccemie perché parliamo di un impatto molto forte effettivamente sono tre parabole enormi di 18 metri di bianni che non trasmettere a bigliaia sì sì quello no no chiaro sì sì c'è la relazione vai vai no no vai tu sei le relazioni firmate tra l'altro il tecnico di Torino dal professore Zucchetti Massimo Coraggio eccetera proprio espressamente sulla questione dell'impatto elettromagnetico se lo so per dirvi vai vai lui l'ha detto non si faceva a sigonella per il rischio che innescasse l'esplosione dei sistemi d'arma all'interno della base il Politecnico ha dimostrato l'impatto anche sul traffico aereo civile la base di Comiso dista 20 chilometri in aria anche meno sì quindi c'era un problema per la salute anche della popolazione molto sentito no che è stato anche molto mobilitante tra l'altro questo problema tutto un complesso di cose che non si possono scindere mentre diciamo prima venivano scisse e affrontate separatamente quindi quando il movimento si chiarisce sostanzialmente si acquista un terreno si fa un presidio permanente attaccato alla base proprio per avere una presenza costante che viene abitato per anni da centinaia di ragazze e ragazzi il movimento si dà una carta di intenti perché proprio per evitare gli sbandamenti precedenti una carta di intenti in cui si chiariscono le modalità di funzionamento l'assemblearismo una organizzazione orizzontale e soprattutto l'azione diretta come forma di lotta e non nell'azione delegato filo istituzionale eccetera si mettono una serie di paletti rispetto a condizionamenti che potevano arrivare dalle scende che ci sono stati da parte di tanti partiti dai 5 stelle a partitini minuscoli da 4 soldi anche quindi subito dopo ecco si mette in pratica questo discorso azione diretta ecco io faccio un brevissimo elenco delle azioni dirette le azioni sono cominciate con delle incursioni e dei tagli delle reti di questa grande base c'è un milione di metri di perimetro abbastanza incontrollabile in quella fase ancora finché non ci hanno preso le misure e quindi poi si riusciva anche a entrare è cominciata una esperienza originalissima di invasione di occupazione delle antenne di queste 46 antenne non del MUS che era ancora in costruzione perché la lotta era per impedire la costruzione per cui i compagni salivano sulle antenne ha cominciato uno che abbiamo come copaesano sicolo piemontese Turi Vaccaro che molti di voi conoscete ma poi è stato seguito da decine di ragazze e ragazzi salendo nelle antenne si occupavano e stavano lì con le amache per giorni anche e il fatto di stare sulle antenne implicava che dovevano staccare le antenne e quindi poi la denuncia che è arrivata era di interruzione di comunicazione militare internazionale quindi il sistema diciamo si paralizzava un qualcosa abbastanza diciamo pesante ma importante dal punto di vista dell'effetto pratico poi ci sono state i passaggi successivi le invasioni di massa per ben due volte 9 agosto 2013 9 agosto 2014 il movimento è entrato dentro la base sfondando le recensioni è entrato e tutte le volte con delle strategie che avevano portato i ragazzi a occupare le antenne il movimento entrava e si andava a prendere i ragazzi dalle antenne per non farli poi arrestare dalla Dicos quindi dopo tre o quattro giorni una settimana di occupazione mille persone entravano nella base cosa mai vista diciamo forse in Italia era una cosa che in quella fase ha scioccato in primis i celerini che non si aspettavano il corteo dentro la base americana e poi chiaramente ha comportato tutta una serie di tirate d'orecchi all'ordine pubblico a chi gestiva l'ordine pubblico italiano e quindi queste invasioni compresa una più piccola ma significativa del 25 aprile del 2014 quando si è andata a liberare un pozzo di acqua che era dentro la base che gli americani si erano ritagliati dentro e abbiamo semplicemente spostato i recinti tolti e li abbiamo rimessi oltre il posto è rimasto il posto è rimasto fuori il discorso del pozzo ve ne accenno dopo perché la liberazione del pozzo simbolicamente il 25 aprile poi ci sono state tantissime barricate perché avevamo questo presidio abbiamo ancora questo terreno lungo la strada l'unica stradina che porta gli ingressi della base quindi si facevano delle barricate si bloccava tutto e soprattutto i blocchi stradali i blocchi stradali sono stati importantissimi un'esperienza di crescita enorme perché i blocchi nella fase in cui andavano i cantieri a lavorare dentro la base diciamo hanno ostacolato i lavori per tanto tempo e incoraggiato anche i giudici a mettere sotto sequestro i cantieri perché erano in realtà abusivi privi di tutta una serie di autorizzazioni e praticamente quando si facevano i blocchi abbiamo scoperto che la ditta locale che aveva l'appalto era una ditta mafiosa del boss locale il signor Giugno che non aveva il certificato antimafia però questa ditta lavorava al cantiere senza certificato antimafia scoltata dalla polizia e gli illegali eravamo noi che cercavamo di impedire questa cosa quindi questo è successo questo ma nei blocchi è successa un'altra cosa importantissima nell'economia di questa narrazione che una mattina abbiamo trovato un gazebo vicino al blocco storico nostro di sole donne che erano le cosiddette mamme non muose erano delle donne di niscemi madri bambini che per la paura delle onde elettromagnetiche delle malattie dei loro figli avevano deciso di auto-organizzarsi e creare un loro blocco a venti metri dal nostro con un po' di diffidenza diciamo per salvaguardare la salute dei loro figli anche perché la riflessione era quella che facevano vengono tanti ragazzi da fuori assieme ai tantissimi ragazzi del posto che in quella fase erano veramente ultrapresenti dice noi che facciamo non facciamo niente questo fatto ha delle implicazioni enormi perché in un piccolo paese del sud nel momento in cui alle 5 di mattina le donne escono le mamme che poi sono mamme nonne zie figli eccetera per andare a fare il blocco lasciano i bambini piccoli ai mariti maschi e gli dicono io vado a fare il blocco pensaci tu o pure zì gli fai la colazione lo porti a scuola ha creato uno shock sociale non diciamo che ci piace ricordare perché è anche stato tra l'altro immortalato da alcune interviste di un documentario ha creato uno shock totale che è stato superato soltanto con l'arrivo ai blocchi anche dei maschi dei mariti dei nonni eccetera quindi della popolazione quindi ha avuto un significato importante perché quella lotta 2012 e 2013 è diventata effettivamente una lotta popolare in cui ci hanno messo la faccia tanti finisce mesi con chiaramente queste storie dietro no e poi sono stati anche ostacoli ai mezzi che passavano per esempio a un certo punto le butto lì alcune cose perché è bello un po' riderci sopra ma a un certo punto i militari e la polizia hanno escogitato di fare vestiti siccome noi fermavamo solo le ditte all'inizio non i militari i militari le scortavano hanno fatto vestiti gli operai da militari per cui siccome però erano paesane le donne le mamme soprattutto le conoscevano ogni mattina queste mamme fermavano e chiedevano i documenti ai militari per vedere se erano operai o militari quindi era un blocco al contrario completamente efficiente fuori dal normale e diciamo sono state poi occupazioni di municipi a Niscemi chiedo quasi un mese nel 2013 la regione siciliana il palazzo del governo tante iniziative fantasiosi ne racconto solo una perché nel luglio del 2013 rincorreva l'anniversario dello sbarco degli americani e gli alleati del luglio 43 e quindi avevano organizzato una mega ricostruzione dello sbarco con i mezzi militari dell'epoca i mezzi ambibi e contanto di comparse e attori fra cui attori di beautiful famosi il famoso rigi non so si chiama così rigi non ricordo attori famosi rigi che erano tutti vestiti da militare ebbene sul litorale di geli il giorno che dovevano fare lo sbarco sono spuntati in omos dall'acqua con le bandiere che erano mischiati lì dalla spiaggia e praticamente abbiamo scombinato questa operazione diciamo di come si può chiamare questa carnevalata con i celerini vestiti di tutto punto baschi giubbotti eccetera stivaloni che inseguivano i compagni in costume lungo la spiaggia in una situazione bellissima in cui anche quell'elemento di propaganda che in quel momento aveva un significato importante per loro siamo riusciti a smontarlo e a diciamo ridicolizzarlo ecco questa fase è stata veramente importante perché era la fase delle azioni fatte dagli attivisti e dalle attiviste tanti ragazzi di Niscemi presenti nel terreno nel presidio significava che venivano i genitori le famiglie venivano lì e portavano mangiare c'era un forneo per fare le pizze c'era una socialità in questo posto che è a tre chilometri dal paese la base non è in un posto isolato no e un'altra cosa per esempio è stato anche un picnic organizzato dentro la base abbiamo portato i tovagli il mangiare i bambini giocati a pallone siamo riusciti ad anticipare la polizia abbiamo tagliato siamo entrati e quando è arrivata la polizia hanno fatto una figuraccia tant'è che a noi ci hanno denunciato sapete perché? perché abbiamo messo in cattiva luce la polizia in quanto non era riuscita ad anticipare un'azione illegale quindi è come se uno che deve fare una rapina prima glielo deve dire se no li mette in grande valuce si becca la denuncia per cui eh si sono stati messi veramente in imbarazzo quindi diciamo a fianco a queste azioni fatte anche allegramente con disinvoltura che hanno comportato però chiaramente centinaia e centinaia di denunce di processi eccetera c'erano anche delle azioni più sociali per esempio c'è stato uno sciopero generale nel nel maggio del 2013 fortissima qua ha aderito tutta la città hanno chiuso i negozi negozi di abbigliamento avevano i manichini con le bandiere no muos è stata una cosa molto partecipata tra l'altro dal punto di vista sindacale coperto dalla cube solo dalla cube allora più un altro un po' meno riuscito ma quello fu fortissimo che in quel momento dimostrò come c'era un paese intero e un territorio circostante che non voleva la base americana poi ci sono state attività nei quartieri la difesa dell'ospedale perché chiaramente come avviene sempre loro dove fanno le basi di morte devono creare il vuoto quindi devono distruggere quello che esiste perché la gente se ne vada per cui il presidio ospedale di Riscemi l'avevano chiuso per cui per esempio noi abbiamo legato la lotta per l'acqua e ora torniamo al discorso del pozzo alla lotta con del muos perché in un paese in cui si spendevano centinaia di milioni di dollari per una struttura di morte mancava l'acqua l'acqua arrivava l'acqua potabile ogni 15 giorni forse voi ci arriverete e capirete meglio qua col po e cosa significa noi siciliani lo sappiamo più degli altri siciliani perché ogni 15 giorni significava che lì dovevano comprare acqua continuamente dai boss del posto che l'acqua c'è non è che non c'è e quando poi quella notte arrivava l'acqua nel paese c'era un clima surreale di silenzio perché erano tutte a mettere le lavatrici accumulate c'era un silenzio surreale perché l'acqua arrivava tipo alle 7 di sera e alle 7 di mattina finiva quindi la lotta per l'acqua che è stata una lotta collegata alla lotta contro la presenza militare ha portato che oggi l'acqua arriva ogni due giorni che è già un lusso perché per chi era abituato in quelle condizioni l'acqua potabile ogni due giorni tutte le case di Niscemi hanno dei serbatoi azzurri il panorama è condizionato da questi mega serbatoi azzurri in vetro resina sui tetti perché quando arriva l'acqua te la pompi su e poi quando non c'è ci cambi per i giorni che manca quindi diciamo questo si è fatto dopo scuola a difesa della ferrovia perché a proposito del vuoto è tollato un ponte tra Niscemi e Caltagirone nel maggio del 2011 hanno chiuso la linea e la linea ferroviaria è ancora chiusa anzi ho saputo una settimana scorsa che non le riaffiranno più quindi per dire e poi c'è stata a fianca quindi azioni dirette e azioni legali di questi bei momenti fino al 2015 2016 le azioni sociali anche le vie legali perché le vie legali a un certo punto sono riuscite a mettere un granello di sabbia nell'ingranaggio del militarismo perché erano riusciti non solo a provocare diversi sequestri del cantiere cosa di non poco conto perché anche lì i giudici devono avere un po' di coraggio ma soprattutto anche pronunciamenti del tarre favorevoli alle posizioni del movimento sull'abusivismo del muos o sull'impatto anche negativo e consiglio di stato poi loro hanno fatto degli imbrogli a cui ora accennerò per recuperare questa situazione perché naturalmente il signor Obama da una parte i nostri governi perché sono passati tutti da Berlusconi un po' tutto l'arco costituzionale prostituzionale diciamo si è gestita questa questione e ce l'avevano a morte con noi ci sono le relazioni dei servizi segreti del periodo che se non vanno i nomi poco ci manca però qual è il problema che noi in quegli anni abbiamo bloccato il muos e gli americani erano arrabbiatissimi perché erano pronti dappertutto ma mancava questo cavolo di muos siciliano e tutto il sistema era bloccato e quindi praticamente non sapevano che cavolo fare poi l'hanno saputo hanno adottato i soliti sistemi che si utilizzano quando gli americani si arrabbiano non ci hanno potuto fare fuori però hanno fatto tanto una caterva di denunce e di multe le multe diciamo sono più pericolose delle denunce perché quando a una famiglia ti arrivano centinaia di euro migliaia di euro da pagare ti mette veramente in crisi più di una denuncia un processo che magari puoi vincere ma poi ci sono state anche multe molto grosse tantissimi processi a volte anche media processi come quelli i maxi processi come quelli della mafia in cui noi eravamo 70-80 imputati per invasione della base per blocchi stradali denunce per le multe al tribunale direttamente che poi andavano al ministero la multa era il governo italiano è stato difensore d'ufficio sempre degli americani e quindi il ministero le multe erano se tu ingresso abusivo in luogo militare e così via e quindi sono le condanne amministrative purtroppo vengono utilizzate sempre di più per le manifestazioni per virgolette non autorizzate mentre prima facevi il procedimento penale oggi tagli le gambe perché quando ti arriva un provvedimento amministrativo di condanna a 2500 euro ormai la media capisci che ti distrugge e tra l'altro soprattutto se più giovane sei preferisci pagare perché così hai chiuso il contenzioso dello Stato perché se no dovresti fare la richiesta di andare in tribunale per rimettere in discussione e parte un processo che può durare due anni tre anni anche di più quattro anni per cui preferisci pagare può avere conseguenze nei concorsi e così via quindi le multe i fogli di via che sono stati sono ancora tuttora utilizzati i fogli di via contro gli attivisti secondo loro più carismatici ma ci sono state anche le minacce e le pressioni alle famiglie anche la mafia ha avuto un ruolo perché Niscemi è un paese che ha una sua bella cosca storica radicata conosciuta ancora fino all'altro ieri al corteo che abbiamo fatto il 25 febbraio abbiamo visto i loro bar che ci guardavano in Gagnesco la mafia naturalmente dietro le quinte andava nelle famiglie a sconsigliare i genitori da tenere i figli in prima linea a dirgli pandele via a farli andare al nord e in realtà tantissimi ragazzi sono partiti prima perché obiettivamente dovevano trovare lavoro e lì lavoro non ce n'è quindi dopo anni di battagliare di essere anche stragarichi di denunce eccetera dovevano scegliere molti sono ora sparsi per il nord Italia e per l'Europa e noi ci siamo sguarniti della prima linea soprattutto quella locale quella fatta dai ragazzi locali che significava le loro famiglie il quartiere eccetera e poi c'è stato questo imbroglio dell'Istituto Superiore di Sanità che nel 2013 a cavallo di quella pagliacciata dello sbarco americano ha fatto diciamo ha emesso è stato intanto ehm nominato dal ministero come ente super partners per dire la sua sul muos come se dipendesse l'Istituto Superiore di Sanità da chi? dal padre eterno dipende dal dal governo quindi questi ovviamente hanno fatto una una dichiarazione eh molto ambigua che è stata poi colta dalla regione per eh togliere eh il blocco delle autorizzazioni e ridare le autorizzazioni agli americani che in un primo momento sulla foga della lotta la regione aveva eh diciamo cancellato quindi diciamo con questo imbroglio dell'ISS eh gli americani hanno riavuto eh diciamo tutti i permessi soprattutto quelli della regione e hanno cominciato i lavori eh in quella in quella fase ricordo che il nostro presidente della regione Crocetta si giustificò che era stato minacciato che addirittura lui era l'intestatario della mega multa di vari milioni di dollari per il blocco del MUOS per quell'anno di ritardo e però parlò che nel movimento c'erano anarchici infiltrati e questo ci potrebbe pure stare anche se non erano infiltrati ma soprattutto mafiosi infiltrati per cui erano questi argomenti beceri che cercavano di fare terra bruciata quindi il MUOS infine è partito quando è partito il MUOS eh come succede sempre quando tu pensi di avere una vittoria ormai eh diciamo in arrivo era anche una mezza illusione di poter pensare che si vincesse contro il Colosso americano su una cosa con una posta in gioco così importante no? E quindi c'è stato un certo calo della passione un po' la disillusione subentrata un po' è subentrata la diciamo la disillusione di tanta gente che non è che ha cambiato posizione però ha fatto un passo indietro per cui diciamo da quel momento il movimento si è venuto a trovare un po' più isolato parliamo del duemiladiciassette duemilasesse duemiladiciotto e chiaramente noi avremmo fatto sicuramente tanti errori per carità soprattutto chi cercava chi pensava che tutto e subito si poteva ottenere questo è molto difficile ma anche chi ha provato di egemonizzare meschinamente questo movimento che obiettivamente era una grossa realtà per la Sicilia e per l'Italia e lo è tuttora perché non parliamo di qualcosa di morto ecco però l'altro elemento appunto è stata l'emigrazione dei ragazzi l'emigrazione dei ragazzi è stata pesantissima parlo di decine e decine di ragazzi che ci avevano messo l'anima negli anni della lotta non muost addirittura i primissimi che hanno organizzato lo sciopero del matrimonio nel nel lontano 2011 che erano le coppie che hanno fatto un corteo vestiti da sposi hanno dicerato che non si sarebbero sposati se lì avrebbero fatto questa base iniziative simpatiche originali ma questi ragazzi oggi noi non li abbiamo più sono tutti sparsi in nord Italia a lavorare in nord Europa fino in Svezia in Svizzera eccetera eccetera e poi voglio dire ci sono stati degli errori strategici che noi abbiamo accusato diciamo esterni a noi ma mi riferisco a tutte le realtà critiche antagoniste antimilitariste non violente nazionali che sicuramente non hanno capito non hanno letto bene quel tipo di lotta cioè l'hanno considerato una lotta territoriale una questione di un territorio come quando tu ti muovi per una discarica per una situazione specifica e quindi l'hanno considerato una questione dei siciliani senza considerare la reale portata e quindi quello che bisognava di dare come impulso fuori dalla semplice prima linea locale che chiaramente ci doveva essere però mi ricordo appunto i tempi di Gomi se noi c'eravamo c'era un movimento internazionale che veniva a Comiso c'erano le manifestazioni a Roma di un milione di persone sì c'era il partito comunista ancora però c'erano queste cose erano assunte come problematiche generale e nazionale e un'altra cosa appunto che credo che sia nella constatazione un po' di tutti il fatto che per tanti anni il tema della guerra il tema del militarismo è sceso di tono non è stato più nell'agenda di tante tante realtà non l'hanno più considerato come un tema centrale poi ci voleva la guerra in Ucraina per risvegliarsi ma tra l'altro è stato un risveglio brevissimo perché dopo il primo mese di grandi manifestazioni abbiamo visto che più o meno siamo tornati con i numeri di pre febbraio duemila e ventidue e quindi questa disattenzione questo non capire l'importanza delle strategie militari degli stati che non c'è bisogno che usino le armi ma basta che li fabbricano li vendano e costituiscono basi già loro creano condizioni per la morte degli altri e quindi in parte che poi comunque queste armi vanno a finire sempre nei mercati che sono poi questi mercati i conflitti anche minori che ci sono nel mondo ebbene in tanti anni soprattutto in questo lungo periodo di questa lotta in Italia pochissime parlavano di guerra di base militare di militarismo di militarizzazione eccetera e noi questo l'abbiamo scontato per quanto ci siamo sforzati di fare capire che la questione Mous era non una questione niscemese siciliana ma generale questo l'abbiamo pagato anche sulla nostra pelle con un certo isolamento invece abbiamo visto che la guerra è stata sempre centrale quindi la lotta è stata una lotta popolare nel senso di con il popolo ora è una lotta popolare nel senso che ha una buona popolarità però il popolo non c'è il popolo sta a guardare se faccia i balconi quando facciamo i cortei ci simpatizza chiaramente se facciamo le collette ci dà il contributo però non ci mette più la faccia tanne quella minoranza di persone locali che ci sono state sempre e ci saranno il nostro presidio permanente c'è ancora è vandalizzato perché noi lo viviamo solo durante l'estate quando facciamo i campeggi ma continuiamo ad essere presenti in questo paese per sostenere appunto che Sigonella e il Muos sono due ipoteche alla libertà diciamo alla pace nel Mediterraneo non solo in Sicilia finché ci saranno e tra l'altro nei progetti degli strateghi militari diventano sempre più importanti e sempre più potenti e militarizzati quindi diciamo finché avremo questo cancro noi diciamo abbiamo solo la prospettiva di morirci di cancro se non lo estirpiamo quindi la lotta continua diciamo benché dalle migliaia sono passate alle centinaia di persone che si muovono ecco io finisco dicendo solo Antonio ha accennato a questa grande campagna di propaganda che fanno i militari perché per ha accennato si è dilungato ha fatto la relazione su questa questione perché per tenere in via di questi apparati bisogna che i territori siano completamente ubriacati dalla propaganda militare soprattutto a partire dalle scuole quindi abbiamo parlato dei militari di Sigonella iperattivi in tutto il territorio siciliano fanno le riparazioni edili negli istituti scolastici perché l'edilizia scolastica è quella che è sempre peggio con l'autonomia differenziata che dobbiamo dire meno male che ci sono i Marines che ci rattoppano le scuole quindi fanno lezioni di lingua madre fanno appunto i corsi di alimentazione il PCTO per esempio io sono di Ragusa quando l'istituto ex ragioneria che ora si chiama istituto aeronautico ha mandato i ragazzi in gita qui a Cameri o Cameri a vedere come si fabbriano gli F35 noi abbiamo fatto una contestazione davanti alla scuola l'indomani la dirigente ha fatto un comunicato che si poteva sintetizzare in la guerra serva preparata la pace e questo era lo spirito con cui loro facevano queste porcherie e le continuano a fare e ricordo un altro elemento che è importante perché soprattutto nel sud credo ormai ovunque ma soprattutto nel sud perché loro offrono posti di lavoro e questa è alla fine il la parola magica di tutte queste rappresentazioni che fanno nelle scuole l'offerta di possibilità occupazionari ai ragazzi e chiaramente capirete che è una cosa che funziona perché noi in buona parte per esempio la lotta a comiso l'abbiamo persa anche perché offrivano posti di lavoro nella costruzione di una base parlavano di 3.000 posti di lavoro sono state centinaia sono durati tre anni poi la base l'hanno finita anni scemi non l'hanno potuto fare perché è una base dove devono esistente dove devono piazzare delle antenne il lavoro è durato poco ed era di poche decine di persone ma l'offerta dei posti di lavoro continua a essere l'anno più bigliacca che ci possa essere perché loro creano le condizioni perché non ci sia lavoro e poi ti offrono il loro sporco lavoro di andare a imparare come si uccidono le persone gli esseri umani si distruggono le città e i paesi perché alla fine è questo quindi tutto questo è un grande argomento di attività che ci impegna quotidianamente vengano a fare anche i concerti nelle chiese i cori dei marines le bande dei marines nelle scuole e nelle chiese soprattutto scuole elementari perché quelli sono i terreni più più adatti e poi c'è una cosa tu ne hai accennato abbiamo realizzato così ho finito abbiamo realizzato un dossier su università e guerra perché le nostre università sono completamente coinvolti in progetti o spudoratamente militari o comunque di doppio uso civile e militare di cui gli studenti sono spesso inconsapevoli per cui i ragazzi soprattutto delle università tecniche chiaramente portano avanti degli studi su cose che poi utilizzano sia il pentagono perché sono progetti direttamente finanziati alcuni dal pentagono o dallo stato di israele che poi utilizza i risultati contro i palestinesi quindi o addirittura dalla Turchia che li utilizza come tutti sappiamo contro i kurdi o contro la propria popolazione eccetera le nostre università sono sempre più piene di progetti di questo tipo che permettono anche alle università di avere delle risorse finanziarie visti i tagli che hanno subito quindi in buono e in malafede però questo discorso va avanti ed è un altro discorso da attenzionare e da cercare di ostacolare va bene in mezzo a tante vicende che intanto girano qua intorno siamo arrivati penso all'intervento di Giovanna io direi poi magari alla fine se avanza un po' di tempo discuteremo ancora perché è il momento non dovrebbe essere grazie Pippo dunque riprendo io non ho un argomento semplicissimo perché dovrei in qualche modo far concluire quello che è stato detto prima con un discorso sulla scuola e non vorrei limitarmi a lodare l'educazione alla pace che già viene fatta che spesso è molto formale talvolta è di ottima qualità ma come in tante occasioni conviene fosse di più dare uno sguardo obliquo su quello che sta capitando che non guardare direttamente i molti corsi che nelle varie scuole si fanno per educare dalla pace comincio da una storia di vita vissuta anch'io qualche anno fa il 2017 mi capita di fare parte di una commissione di maturità esamino i fascicoli dei ragazzi sapete che ci sono i crediti formativi era un istituto per l'aeronautica guardo che cosa c'è scritto e vedo credito formativo portodarmi e non credo ai miei occhi perché dico ma portodarmi però passo avanti mi sono riservata di intervenire dopo dico riguardo tutti e ce ne erano almeno tre o quattro portodarmi conseguimento del portodarmi tra l'altro il nemico molto tra virgolette perché qua siamo come dire dovremmo essere mossi da sentimenti pacifisti però l'avversario facciamo così spesso è molto simile a noi perché io la persona che faceva da coordinatrice in quella classe la conoscevo un'ottima persona dico ma come mai avete messo questa cosa qua e ma sai per prendere il portodarmi bisogna acquisire delle conoscenze fare questo fare quello dico ma guarda proprio non va non va assolutamente cosa c'è cosa c'è di formativo nel portodarmi ma sai poi loro magari faranno i piloti sono lì nell'aeronautica non c'entra la scuola non può e ho faticato veramente a far capire quello che stonava nel considerare il portodarmi come credito formativo chiaro anche l'automobile può essere uno strumento di morte però tra la patente e il portodarmi io ci vedo una differenza perché il portodarmi mi sembra che serva solo a impugnare delle altre questo per dirvi che la bussola è completamente persa uno dei problemi della scuola italiana è la perdita di orientamento e la perdita o l'essere ridotto al minimo siamo un po' meno pessimisti di un sentire comune che porta degli adulti che fanno tutti lo stesso lavoro a dire no quello non va assolutamente bene questo è un problema grande che ci parla della disgregazione in cui viviamo farò riferimento a qualche libro giusto per mettere dei punti fermi nel mio discorso allora il primo che citerò l'ha scritto Goffredo Fofi che si intitola Salvare gli innocenti e il concetto fondamentale è già escluso nel titolo gli innocenti sono i bambini i ragazzi i giovani noi dobbiamo costruire non il recinto contenitivo che la scuola purtroppo molto spesso è e cioè un recinto repressivo che li spinge a come dire a che li comprime dobbiamo costruire in qualche modo qualcosa che dia loro quello che il mondo esterno non da più che gli sottragga la pressione del mondo esterno pressione fortissima è che da qualche decennio secondo me è diventata insostenibile per una creatura giovane a meno che non trovi degli adulti che davvero gli diano dei modi per difendersi da che cosa? In primo luogo dall'invasività dei media digitali non diciamo non non giriamo attorno alla questione anche la scuola 4.0 di cui parlava prima Antonio ha una portata aggressiva e quindi violenta che è facilmente leggibile è facilmente leggibile perché gli adulti i professionisti che saremmo noi si occupino di capire dove va la scuola 4.0 e mi rivolgo in particolare alla indifferenza con cui intere scuole elementari e medie parlo delle elementari e delle medie perché i piccoli sono quelli più esposti hanno accolto un piano scuola 4.0 che in pratica spinge tutto verso l'informatizzazione un computer per ogni bambino ambienti ambienti diversi ma diversi in che senso? Aule virtuali nessuno di loro avrà mai letto non so uno dei più noti Manfred Spitzer che è un neuropsichiatra che ha parlato di queste cose l'organizzazione mondiale della sanità per i più piccoli sconsiglia l'uso dei media digitali neuropsichiatri che come Spitzer hanno studiato il problema hanno ricavato questo che lo sviluppo cognitivo di ragazzini bambini sottoposti precocemente l'uso dell'uso dei media digitali si rallenta ora c'è qualche studio che confermi che i grandi investimenti in strumenti digitali l'informatizzazione delle nostre scuole abbia portato miglioramento no non ce ne sono c'è soltanto una petizione di principio bisogna correre dietro i tempi questa è la modernità va bene così ma chi l'ha detto che va bene così oltretutto negli anni precedenti quelli appena precedenti della pandemia fra il 2014 e il 2019 gli investimenti in strumenti informatici hanno toccato i 2 miliardi nelle scuole italiane frattanto gli studi internazionali che misuravano a loro piace misurare non hanno segnato mai nessun miglioramento per quel che riguarda la qualità dell'apprendimento delle nostre scuole il discorso sembra sfumato ma lo è qui in un certo punto c'è un tipo particolare di indifferenza all'umano e di abbassamento delle capacità critiche che sono la caratteristica prima di un essere umano che passa anche attraverso il privilegiare un certo tipo di strumenti per la didattica sostituendoli a strumenti che ad altri che si credono superati e soprattutto ma interrogandosi su che cosa non va nelle nostre aule che purtroppo sono aule che ospitano la violenza di fatto chi di voi scorrere cronache dei giornali avrà visto che a parte la bella parentesi della pandemia in cui tutti favoleggiavano della scuola come fosse un Eden perso per sempre in cui tutti socializzavano però io prima della pandemia seguivo le cronache scolastiche e addirittura un sito scolastico aveva proposto un contatore che come dire annotava tutti gli atti di violenza che accadevano nelle scuole atti di violenza di tutti contro tutti omo studenti contro insegnanti insegnanti contro studenti genitori contro insegnanti quasi sempre non c'erano zuspe fra genitori ma probabilmente quelle non non venivano registrate e c'era un contatore tutto scuola mi pare che fosse finita la pandemia ricomincia la stessa storia polemica recente la litizzetto che interviene sul caso del professore eccetera eccetera evidentemente c'è qualcosa che non va e come lo cambieremo introducendo questa grossa quantità di denaro che non è altro che una partita di giro e lo si legge chiaramente fra industrie che producono e scuole che acquistano ci sono i pacchetti chiavi in mano nel senso che le singole industrie produttrici di media per informare di media digitali propongono alle scuole addirittura ho visto che persino il WWF si è inserito in questa in questa in questa corsa al ai fondi 4.0 e sono vabbè è così in ogni caso diciamo che il punto fermo è questo purtroppo c'è una caduta verticale di un comune sentire degli adulti che lavorano a scuola e questo è un problema anche rispetto ai temi di cui stavamo parlando mentre la scuola dovrebbe essere non solo il luogo della socialità per eccellenza socialità che porta ad apprendere ma anche un luogo di in cui si è per gli altri un altro riferimento per me essenziale per impostare il nostro modo di essere più che per come dire indottrinare gli studenti su pace e guerra cosa che spero non faccia nessuno è un altro testo i testi anzi fondamentali gli ha scritti senza altro Aldo Capitini che ha due parole chiave nel suo discorso qui siamo nel luogo proprio insomma il centro sereno regis si occupa senza altro di Aldo Capitini Aldo Capitini è e resta uno degli intellettuali più grandi del nostro novecento nessuno lo legge grazie a Dio è relegato in un limbo forse perché ha fatto un uso troppo libero della parola religioso quindi lo si è visto come ma lui non è assolutamente assolutamente un praticante o un cattolico ma per niente nel vocabolario di Capitini c'è una bellissima parola che usa quando parla in generale di relazioni fra esseri umani e di educazione in particolare è la parola apertura io volevo fermarmi sulla parola apertura perché per me sostituisce una parola che io vedo sempre di malocchio la parola inclusione c'è differenza fra inclusione e apertura certo che c'è perché includere significa chiudere in un cerchio io sto dentro lui sta fuori ma vieni pure con me e stai con me c'è sempre un fuori però apertura significa che io apro le porte di casa mia può entrare lui può entrare lei chi vuole può entrare è tutto un altro atteggiamento Capitini diceva che io esisto nel momento in cui dico tu ed è vero questo questo dovremmo insegnare ai nostri studenti questa è pace atteggiamento pacifico nel porsi in relazione con gli altri noi costruiamo noi stessi è un'idea forte secondo me che va ripresa come va ripresa un'altra idea più difficile da far capire forse ai giovanissimi ma altrettanto basilare che è l'idea di compresenza Capitini parla di compresenza compresenza è una parola che usa lui sua del suo vocabolario filosofico compresenza è il sentire che chi è stato le generazioni che ci hanno preceduto e tutti gli altri tutti i viventi dice lui è un profondo rispetto anche per il vivente in generale contribuiscono a creare quello che definisce un valore cioè i morti non sono morti per sempre sono la storia potremmo dire ha un qualche senso sottrarre alla dimenticanza quello che è stato e recuperare con forza quello che di buono si è costruito e quello è un'indicazione per far sì che la nostra vita in cui senso non è affatto definito abbia comunque un senso la compresenza dei morti e dei viventi è il titolo del libro forse più importante di Capitini laddove si capisce che se non c'è riscatto anche dei morti le cose non vanno bene pensate quanto siamo siamo lontani in questo mondo in cui i vivi non riescono ad avere nessun riscatto non sono legati da vincoli buoni di socialità se non in poche fortunate occasioni come quelle che ci ha descritto con allegria Pippo e voglio dire che l'allegria è anche un sentimento fondamentale non si dà socialità senza allegria l'idea di socialità mi rimanda ad un altro testo per me importante a un'altra serie di testi che sono quelli di Ivan Illich che parla che è il maestro di Serge Latouche che voi conoscerete e che parla di convivialità ecco dove sta la pace e che parla di sobrietà ecco dove sta la critica da muovere al nostro mondo un mondo che spreca ed è misero nello stesso tempo che crea il superfluo e crea la miseria che divide fra chi ha chi non ha non si può non ci può essere un'educazione alla pace senza questi concetti di base fondamentali e credo che a questi concetti forse perché sono di portata molto generale e profondi i giovani siano particolarmente sensibili e non si può parlare di pace senza guardare con sguardo critico la nostra società che è in guerra anche quando è in pace voi pensate a quanto è cresciuta la conflittualità vera e il disagio negli ultimi quattro decenni dagli anni 80 oggi stiamo percorrendo questa parabola discendente non so dove arriveremo è una guerra dichiarata di alcuni contro altri quando si parla di lotta di classe non si parla di qualcosa io non lo uso neanche in senso metaforico questo termine c'è un'intera classe che ha dichiarato guerra tutto il resto e l'ha vinta cos'è la precarietà se non il trionfo dei più ricchi sui meno abbienti e meno pronti a a prendere a prendere il coraggio e a protestare questo è si può essere davvero in pace se la diseguaglianza cresce d'artiginosamente io direi di no c'è pace in questo affronto che quotidianamente viene mosso dal dal modello di sviluppo che ci domina verso la natura direi di no sono tutte azioni che in qualche modo sono ostili potrei dire di guerra e penso che anche a questo bisognerebbe abituare i ragazzi a pensare che noi siamo qui d'accordo sarà l'antropocene sarà l'età dell'uomo ma non è andata tanto bene la mancanza di rispetto verso il vivente la pagheremo prima o poi e la stiamo già pagando usciamo e respiriamo l'aria torinese la vita contro la morte e io sono così la vita contro la morte proporrei questa cioè la guerra è la morte contro la vita è l'estremizzazione di qualcosa che il nostro mondo quotidianamente ci mette davanti sotto altre forme bisogna essere in grado di avere uno sguardo obliquo e vedere che cosa c'è di mortifero nella nostra società purtroppo c'è molto e poi bisogna dire bisogna dire anche che c'è la guerra vera e la guerra vera non è mai giusta concetti semplici dov'è la guerra giusta chi è che ha mai combattuto una guerra giusta la guerra giusta nel momento in cui provoca morte e distruzione non può non può che essere non può che essere ingiusta per definizione Antonio ha portato molti esempi di militarizzazione delle nostre scuole forse perché più banali ne ha lasciati da parte alcuni e io li recupero allora non so se avete seguito ultimamente le esternazioni di la russa il quale vuole riportare la naia la mini naia allora iniziamo dall'inizio la russa è stato il ministro dell'interno in un tempo lontano ma non lontanissimo scusate dell'interno della difesa aveva proposto era il 2010 se non sbaglio già lì un progetto di legge che portava un mini servizio militare arrivò Salvini nel 2019 lo ripropose dunque io non so è stato insabbiato perché poi c'è stato il cambio di governo insomma e comunque era anche quella mini naia che sosteneva il valore educativo della vita militare ecco ridotta come quantità un arco cronologico breve sì un'esperienza intensa ma ma però quando eri a scuola eh? quando eri a scuola quando eri a scuola così nessuno studierà più che ne so neanche Leopardi si salta tutto comunque eh questo questa linea che non si è ancora come dire concretizzata in qualcosa di effettivo è partita dal 2010 con la russa e ce la ritroviamo qua con la russa con delle giustificazioni eh che sono tutte di ordine estremamente educativo ecco quello che la nostra che sta diventando la nostra scuola e che è già diventata eh la russa naturalmente dice dice alcune cose su tutto questo eh non ve le sto a ripetere l'avevo annotata la sua la sua dichiarazione ma non mi pare valga la pena di ripetere la immaginate da solo quindi 40 giorni di mininaia eh le nostre scuole sono per base da 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 coste e purtroppo eh quello che fofi chiama il ceto pedagogico anche io ho deciso di chiamarlo così ceto pedagogico perché troppi hanno eh come dire il senso del ruolo ma non hanno l'anima del ruolo questo non può essere scuola o almeno può essere in una minoranza ma non in una maggioranza come come noi purtroppo vediamo tutti i giorni il ceto pedagogico non si occupa più per stanchezza perché non se ne può più perché è un lavoro complicato però credo che il nostro intervento nelle classi e con i colleghi sia quello di rivestare come dire di riportare eh questi argomenti che sono alla fine argomenti semplici in un dibattito che sia vivace in un dialogo che sia possibile altrimenti la scuola eh non ha altro destino che di consolidarsi per quello che è un luogo in cui si apprende poco eh in cui lavorano adulti che non riescono come dire a incidere sui giovani che hanno e non riescono neanche ad analizzare troppo bene le cause per cui loro non incidono ripeto la pressione del mondo esterno di cui parlavo prima eh è un dato che 50 anni fa non esisteva con questa forza neanche 40 anni fa e direi che una delle cause prime di questa pressione del mondo esterno è data eh dalle nuove tecnologie che i ragazzini hanno portata di mano da sempre non voglio demonizzare niente però pretendere che un bambino stia attento quando è stato tirato su a giochettini sul computer eh o o magari sullo smartphone della mamma è pretendere l'impossibile eh sono funzionamenti mentali che non vengono addestrati quando devono essere addestrati c'è una ci dovrebbe essere lì la protezione dei più piccoli se non li vogliamo veder cadere preda del peggio i videogiochi ecco anche quelli violenti sono stati studiati Manfred Spitzer sempre il neuropsichiatra di cui prima eh riportava del degli studi fatti negli Stati Uniti per cui questi giochi di guerra lui li chiama videogiochi sparatutto abbassano notevolmente la eh capacità di reagire eh di fronte alla violenza l'esperimento era semplice chiusi nelle proprie stanzini era un esperimento quindi ognuno col proprio videogioco violento si sentiva un urlo fuori e quasi nessuno andava a vedere che cosa succedera e questo è l'indice che il virtuale sostituito al reale a poco a poco ottunde quello che di umano c'è in noi non non c'è dubbio la scuola dovrebbe lanciare un grido di allarme altro che materie stemme altro che favola della scuola che deve inseguire le nuove professionalità andate un po' a vedere su internet quali sono le nuove professionalità a me non interessa che uno si occupi di cibersicurezza c'è la cibersicurezza fra le altre cose sono tutte professionalità strettamente legate a quel mondo e che non hanno relazione con l'umano sostanzialmente hanno relazione con la costruzione di un mondo sempre sempre più lontano dalla realtà e sempre più virtuale quindi se dovessi dire la guerra la battaglia per la pace nelle nostre aule la si conduce ogni giorno quando si abitua da quando si fanno azioni molto molto semplici come abituare i propri studenti a non urlare e a non parlare troppo velocemente perché se io urlo io non posso urlare perché ho poca voce quindi faccio anche una battaglia pro prodomomea però a parte questo chi urla sovrasta fisicamente qualcun altro chi parla rapica come ormai quasi tutte le giovani soprattutto donne parlano a rapica vuol dire che non ammette la pausa che consenta a qualcun altro di intromettare non è colpa di nessuno non si parla di colpa si parla di osservazione e se glielo si dice ci riflettono da questi comportamenti elementari ad altri che riguardano una capacità di vedere il mondo così com'è dal discutere con loro della favola brutta per cui è colpa della scuola se non c'è lavoro nella nostra società perché la scuola non non crea le competenze per le nuove professionalità questo lo dovreste spiegare molto bene a partire da un altro libro per me fondamentale che è quello di Luciano Gallino il lavoro non è una merce erano era il 2010 cioè erano i primi anni del 2000 in questo libro da usare per parlarne con gli studenti pacificamente c'è un capitolo molto importante secondo me quello che mette nero su bianco lui era un sociologo io no mi attengo al professor Gallino mette nero su bianco quanti in quel momento erano i posti qualificati disponibili nella società italiana posti di lavoro pochissimi a fronte di un'ingente quantità di manodopera dei qualificati quindi quella favola lì bisogna demistificarla bisogna anche attrezzarli e far capire loro che c'è anche qualcuno che vuole che loro escano da scuola con un diploma ma analfabeti un adulto che non sappia leggere un articolo di giornale questo ce lo dicono un anno sì e l'altro pure tutte tutte le indagini che si occupano di questo non può essere un cittadino consapevole l'alta percentuale distensionismo ha a che fare con questo il disimpegno in qualsiasi attività che abbia a che fare con il sociale è lì che si costruisce una società più giusta una società più giusta e una società maggiore una società maggiore è una società più difficile ed è una società che spontaneamente si colge contro la guerra sono molto scettica sugli interventi frontali di educazione alla pace e anche altrettanto fiduciosa sugli interventi laterali che abbiano la forza di buone letture da proporre perché i ragazzi la testa ce l'hanno e la devono usare per capire e se noi li lasciamo lì a stagionare in questo bagnomaria indistinto in cui li vorrebbero far stare non ce li ritroviamo più però possiamo la nostra è un'opera importante lui è tornato e quindi parto dalla sua prima citazione e Don Milani che diceva e beh maestro è colui che non studia per sé studia per altri e parallelismo con Capitini qui è evidente anche se erano due figure molto molto diverse io propendo per Capitini chi dice maestro è chi studia per altri e io esisto quando dico tu e quando diciamo noi e se no che razza di mondo vogliamo fare cosa vogliamo insegnare ai nostri ai nostri giovani studenti poi possiamo dar loro tantissime informazioni e se inquadrate in questo modo credo che diventeranno tutte proficue e che soprattutto noi sentiremo che un lavoro che stiamo facendo lo stiamo facendo con loro non voglio dire contro e contro chi ci comanda però quasi quasi lo direi non nella direzione voluta da chi in questo momento e da troppi decenni ormai fa piombare sulla scuola riforme burocratiche staccate dalla realtà e portate necessariamente se si agisce in maniera conseguenziale a costruire un mondo sempre più ingiusto su questo penso di aver ragione totalmente perché purtroppo gli ultimi quarant'anni che io ho visto sfidare davanti ai miei occhi mi hanno dato ragione e non credo che sia migliorato molto siamo arrivati alla su una linea di confine quello in cui si pensava ma si pensava come dire come cosa piuttosto teorica il pericolo nucleare che è di nuovo lì e quindi ora è ora di togliere la parola e di riprendercela se è possibile farlo con i nostri studenti allora immagino che siamo tutti abbastanza provati nel senso della lunghezza del nostro intervento ma c'è forse qualche richiesta anche online c'è Cristina Bracchi che dato che non abbiamo dato nessuno spazio all'esterno se Cristina può diciamo provare a intervenire ascoltiamo il più possibile velocemente soltanto grazie buonasera spero che mi possiate sentire aspetta un attimo che amplifico più che posso grazie io ho alzato il mio volume va bene ci siamo parla pure Cristina grazie d'accordo grazie grazie a voi io lavoro al liceo Cavour ringrazio Marzio Guerini e Lopresti che hanno introdotto questioni nodali importantissime su cui dobbiamo comunque imparare a confrontarci naturalmente ringrazio moltissimo chi si sta occupando di questa organizzazione perché da troppo tempo non ci confrontiamo e non ci misuriamo con i temi della realtà della quotidianità che sono urgenti e premono e i quali ci danno modo anche di capire che la guerra non è solo quella che canonicamente intendiamo come guerra quella dei militari quella delle delle armi ma la guerra è quella che ci mette di fronte alle realtà drammatiche nel sud Italia e dell'ultimo dell'ultimo naufragio che ci mette di fronte alle considerazioni di un ministro dell'interno che davvero mi fanno sentire un po' in imbarazzo come cittadina sicuramente come docente ma vado a dire quello che vorrei condividere con voi e cioè il fatto che c'è sicuramente necessità grande di risvegliare un po' le coscienze di tutti prima di tutto di chi vuole fare il nostro mestiere e ritrovare un'etica professionale che ci consenta anche l'agio di rifiutare tutti gli orpelli tutta la progettualità tutto ciò in cui il sistema scuola italiano ci sta richiedendo di fare sottraendoci tempo alla messa tema di questioni a cercare di rinnovare la nostra didattica che vada secondo me in due direzioni almeno io e quello che sto cercando di fare il tentativo che sto cercando di fare proprio per avere di fronte a me ragazzi e ragazze che sentano che hanno un'intelligenza che funziona e che possono contribuire anche loro a un cambiamento della società e cioè da un lato cercare di depotenziare quello che è un sistema economico che sostiene la necessità della guerra e il discorso che si faceva prima della scuola 4.0 è proprio dentro questo discorso e dall'altro cercare di ciascuna nella propria disciplina ciascuna nel proprio ordine di scuola a seconda dell'età che ha di fronte cercare di utilizzare una didattica che vada a costruire un simbolico di contrasto perché lo sappiamo bene insomma chi fa il nostro lavoro lo sa bene che la costruzione del discorso è qualcosa di molto lento molto arduo molto difficile articolato in classe non possiamo come dire fare una politica fare politica ma in classe possiamo portare una didattica politica nel senso di una didattica che sappia costruire un simbolico di contrasto depotenziando soprattutto quello che è un simbolico visto che stiamo parlando di questo lo dico un simbolico che sostiene giustifica gli atteggiamenti aggressivi fino al conflitto cioè tutta l'enfasi sugli eroi pensiamo solo all'epica alla mitologia che noi andiamo a insegnare io sono umanista e quindi di questo parlo i condottieri le grandi azioni il valore il coraggio insomma c'è moltissimo lavoro a questo riguardo da fare che però può essere fatto anche semplicemente in ogni parola che noi portiamo in classe così come anche per quanto riguarda le scienze dure non si fa storia della scienza si insegnano i teoremi si insegna la fisica ma non si fa storia della scienza ad esempio il mezzo che io sto utilizzando per parlare con voi è stato studiato proprio in ambiente bellico eppure questo in questo momento mi sta consentendo di entrare in comunicazione con questa assemblea ecco cose brevi ma su cui mi piacerebbe ritornare e la prossima volta sarò in presenza e vi ringrazio moltissimo grazie Cristina sì ma credo credo che che l'avvio di un di un dialogo di un discorso su tutto questo tema cioè non siamo in grado di separare nettamente un ambito una teoria anche soltanto un dispositivo elettronico cioè fino a dove è morale o quando non lo diventa più quindi il dibattito così come aperto va molto bene volevo avevo visto in chat anche un intervento da parte di Oppo che Oppo A94 che rivolgendosi a Giovanna diceva che secondo lui le dimensioni reale e virtuale sono in realtà non da mettere in contrapposizione fra di loro l'importante è valorizzare l'umano però comunque è d'accordo con quello che dicevi ma io sono una cosa prima ho citato Ivan Illich che ah sì se mi trovo una figura prima ho citato Ivan Illich Ivan Illich che pure sembra come dire un netto oppositore di qualsiasi forma di diciamo di modernità in realtà il suo discorso sulla tecnologia è chiarissimo serve la tecnologia che serve e che ci aiuta a rimanere umani cioè non è che io devo distruggere gli aerei devo capire se è il caso di usarlo o non è il caso di usarlo se esiste però tutto va moderato con come dire con il ragionamento alla fine con quella che Latouche chiama ragionevolezza che è diversa dalla ragione dura e geometrica è qualcosa di più particolato la scuola ha il compito di abituare i ragazzi ad affrontare questi temi non può essere il veicolo acritico dronare la scuola deve interpretare deve provire lo strumento per comprendere la complessità anche della tecnologia e non essere veicolo di tecnologia io ricordo Ivan Illich per una storia dei bisogni come titolo che mi sembra i bisogni come c'era il professor Giorgio che voleva fare un lampo solo perché prima parlavi delle parole di Aldo Capitini e invece le parole negative del questo questa proposta di reintrodurre in qualche modo il servizio militare per scopo educativo in realtà è tutto il contrario perché non è solo diseducativo ma l'unica cosa che si può imparare ma velocissimamente e chi lo ha fatto lo sa ma lo sanno anche gli altri è che si impara che cos'è l'ingiustizia ma subendola la prepotenza l'arroganza la prevaricazione e la volgarità anche che è mancanza di rispetto degli altri quindi per carità mai anche certo e questo non ci piace però anche lì ci si può un po' opporre certo senza perché è capitato ad andare a messa la domenica chi vuole andare a messa e nella compagnia alzavano le mani chi non vuole allora ha pensato ma poi non si sa chi non vuole dice no 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 scusate chi non vuole andare a messa e abbiamo alzato la mano in due uno perché era molto stanco non aveva voglia neanche di andare a messa io perché non volevo andare a messa e ci hanno fatto pulire tutta la compagnia e passare la cera però si impara anche a dire di no grazie grazie sì prego allora professore si allora eh volevo chiedere volevo dire una cosa chiedere confermare insomma Giovanna per quanto riguarda prima ha detto eh non la lezione frontale per la pace e cosa pensi del fatto che hanno introdotto il voto di educazione civica il fatto che dobbiamo fare è una cosa trasversale quando io insegno ai ragazzi delle medie che sono ragazzi difficili perché sono in età di passaggio non sono più piccoli c'è una differenza tra una prima media e una terza media enorme sembra di avere eh gli stessi che hai cresciuto sembra avere ragazzi completamente differenti e noi facevamo educazione civica se vogliamo chiamarla così sempre nel momento che entrano condividiamo le regole ma io come faccio a dare un voto a dare una votazione già dare il voto in tutto e non è una cosa così perché io ai ragazzi dico sempre che non si devono identificare nel voto con cui usciranno perché anche il passaggio al voto è stato veramente dal giudizio per noi delle medie che avevamo il giudizio dove non non facevamo i conteggi creditizi tu prima hai parlato di crediti ma i crediti è una parola economica non è una parola comunque legata alla scuola noi abbiamo cominciato a parlare io da quando sono entrata a scuola non so quante riforme cioè non siamo andati più a due o tre anni poi c'era una riforma quindi per ogni cosa che uno cambia dovrebbe sperimentarla per un po' di tempo invece questo non è stato poi sono stati utenti i nostri fanciulli sono diventati utenti cioè come se fossero prendessero un abbonamento a qualche cosa o si attacassero non so alla luce al gas e dovessero pagare una bolletta perché gli utenti utenti della televisione queste cose e quindi adesso l'ultima che è arrivata ma ne arriverà anche un'altra ci sarà quella dell'orientamento per quanto riguarda le medie affidata a Torino all'istituto Agnelli che ha sempre detto malissimo della scuola media con tutte le difficoltà che noi andiamo abbiamo e quella dell'appunto dell'educazione civica che era un modo di lavorare e un modo di lavorare imparare a non parlarsi uno sull'altro per i bambini degli elementari che vogliono essere che arrivano dagli elementari vogliono essere sempre protagonisti magari nei dieci che parlano contemporaneamente quindi rispettarsi di stamattina in classe un ragazzino si è offeso per una battuta di un altro che non ha capito di aver detto una cosa contro il ragazzino allora fermi la tua lezione di storia e parli delle difficoltà ma io devo dare un voto per questo e mi devo inventare una cosa che sia trasversale andare a prendermi colleghi che non la fanno guarda che non possiamo dare un voto solo dobbiamo cercare un giudizio è veramente difficile e la sensazione a me rimangono una decina d'anni di insegnamento però la sensazione dei senso fra stati come dicevi tu come facciamo un dibattito vivace quando dobbiamo andare a dare voti a raccogliere su queste cose qua così invece importanti i ragazzini poi appunto hanno difficoltà ad affrontarsi tra di loro perché nessuno come facciamo a combattere il fatto che i bambini piccoli li vedi in giro quelli ancora neanche alla scuola materna ancora prima già con un device in mano come facciamo noi a dire e poi quando arrivano noi state attenti a quello che diciamo non è importanza e poi ancora di più sì con la scuola anche noi abbiamo fatto questo mega collegio docenti per quanto riguarda il PNRR ma questi oggetti poi bisogna mantenerli dopo tra l'altro bisogna anche mantenerli questi oggetti cioè noi compriamo il carrello scoperto il carrello che caricherai i device perché è uno dei problemi si scaricano e allora ci sarà un carrello dove verrai e metterai questi tablet che i ragazzini verranno dati ma questi tablet al momento che arrivano sono già poi dopo un anno scuola abbiamo già cambiato le limb ci hanno già smontato con tutto quello di noi cui abbiamo bisogno a scuola anche il gesso sembra assurdo le lavagne vecchie di secoli le abbiamo ancora lì e adesso abbiamo le digital board però continuamente cambiamo sono da una parte sono utili fai una lezione la fai anche in modo diverso e fai vedere uno spezzone di un film e fai vedere come un fasciolittorio e spieghi cos'è cosa significa e lo fai vedere magari sul libro non c'è però d'altre parti è veramente una ci casca tutto sulla testa ed è difficile perché non ci chiedono neanche più le cose è ripartita molto bene perché mi ha diventato una domanda facilissima poi increscendo sempre più allora prima domanda in modo particolare sull'educazione allora tornando a quella e poi magari sfiorando il resto proprio sfiorando dico il mio parere il mio parere il mio parere allora io userei il sabotaggio in questo caso perché sabotare anche Capitini lo dice un'ottima arma sabotare cosa significa sabotare ti fanno ti fanno dare il voto di educazione civica sai quanto è il voto di educazione civica dieci ecco mettigli a tutti i dieci però non facciamo gli insegnanti cioè non facciamo l'insegnante tipo che dice però quello lì è più civico dell'altro dieci perché non lo dai a loro dopodiché questa proposta l'avevo fatto una volta quando volevano dare i voti ai bambini dopo la pandemia dell'elementare si è aperto un grande dibattito e c'era stato uno scambio di idee con persone che peraltro non conosco e qualcuno diceva anzi è intervenuta persino vabbè non dico che è intervenuta comunque dicendo però non è educativo dare dieci a tutti perché è educativo dare un voto che non corrisponde a una valutazione precisa che tu adulto sei in grado di giustificare e che se dovessi giustificarla tu non esci più dalla scuola perché stai lì ad annotare tutto e intervistare i tuoi colleghi ma che senso ha tutto questo il voto di educazione civica io lo saboterei non avendo senso alcuno per quello che riguarda il resto se avessi delle soluzioni sarebbe bello sarebbe ma una soluzione c'è secondo me si fa quello che in coscienza si deve fare è vero che ci hanno sovrastato sono cinque le riforme da berlinguer ai giorni nostri hai messo bene in luce quello che non va cioè se io per esempio che coltivo i campi in maniera biodinamica decido di cambiare mi devo dare qualche anno di tempo per vedere se il mio nuovo metodo va meglio va peggio e o è uguale ma non interessa nessuno verificare questo le riforme sono state un segno un graffio che le parti politiche anemiche che questo paese possiede anemiche senza vita hanno voluto dare sulla più importante istituzione di questo paese che è e resta la scuola non fosse altro perché dirici passano tutti tutti quanti bambini bambine e la devono attraversare chiaro non hanno rinunciato alla vanità e alla ragione politica molto fra virgolette politica bassissima di lasciare un segno gli insegnanti non sono stati in grado come categoria di dare una risposta all'altezza della situazione neanche le più semplici le più semplici erano il primo cambio di riforma cosa volete da noi noi non inseguiamo delle chimere perché il primo da Berlinguer a Moratti proprio è stato un disastro secondo riforma Gelbini ributtargli in faccia erano solo tagli però il fatto che il ceto pedagogico si sia costituito come tale e abbia deciso nonostante sia numeroso di rinunciare alla propria parola forte che dovrebbe rinascere da piccole comunità che si mettono insieme non ci sono più rappresentanze sindacali né tantomeno rappresentanze politiche deve rinascere dalla base questo è il problema uno e unico problema è una categoria formata da persone che hanno almeno una laurea in tasca fanno un lavoro che non è andare in miniera per cui esci veramente a volte esci più stanco morto dalla classe dirà qualcuno non è così cioè il lavoro manuale squibrante sarebbe peggio allora qualche energia riserviamola per riflettere questa è la mia risposta non abbandoniamoci a noi stessi e soprattutto qui bisogna dire non possiamo agire da soli cerchiamo di non essere soli ci sono i nostri colleghi all'interno di un consiglio di classe un 10% di persone sensibili a questi argomenti c'è lo dico statisticamente non perdiamoci di vista il contagio esiste anche positivo molte persone non pensano più perché non pensano che non valga niente pensare e purtroppo ci vuole anche una pedagogia degli adulti a questo punto e stimoli di provocazioni cose e soprattutto non dire non dire di sì non essere accrescenti quando ciò che ci viene richiesto non ha né capo né cose non ho altro un po' poco però il sogno Giorgio vieni vieni a dirlo di qua sì l'educazione civica però secondo me con tutta questa questo modo distorto in cui ci viene imposta però io ad esempio quest'anno sto facendo educazione alla pace proprio perché mi hanno permesso anche se io insegno anche lingua e cultura tedesca di poter fare educazione civica ad esempio io ho fatto proprio qui al Sereno Regis un laboratorio con una mia classe per il fatto che secondo me infatti è sbagliata questa trasversalità che molti intendono come una somma di discipline tra loro inconcidiabili dovrebbe essere uno spazio io infatti sono tra quelli che un po' sì non so la costituzione tedesca in tedesco ok con la conversatrice no perché al linguistico abbiamo la compresenza ma io la faccio anche in italiano extra perché secondo me deve essere vissuta così perché non anche perché se no il voto poi non puoi mettere non lo so il professore di fisica che è una cosa utilissima insegna che bisogna tenere la distanza di sicurezza tra un'auto e l'altra e il fine civile perché se no ammazzi un tuo concittadino ammazzi te stesso però secondo me non può dare il voto in base al calcolo dello spazio di frenata ma succede anche questo per cui il voto io infatti sono molto 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 perplesso certo cioè vedo che lavorano è così però secondo me è una possibilità quest'anno straordinaria perché con la guerra ci vuole la pace e il pacifismo non può essere come dicono alcuni e anche io sono pacifista però adesso c'è la guerra è quando sei pacifista se sei pacifista solo quando c'è pace è come se uno deve mangiare solo quando è sazio va bene allora grazie per tutti gli interventi grazie ad Antonio Mazzeo a Pippo Guerrieri e a Giovanna Lopresti ci vediamo quando Terry comunicazioni di servizio anche una no e ci vedremo al prossimo allora ci vediamo il 10 marzo il 10 marzo alle 18 abbiamo organizzato un incontro pubblico sulla guerra sulle ragioni della guerra ci sono dei giornalisti c'è dunque Nico Piro e Alberto Negri poi Alberto Negri è in streaming Nico Piro viene e ci parlano della comunicazione durante questa guerra di Ucraina poi Nico Piro e Alberto Negri hanno poi nel 1918 comunque io ho mandato l'e-mail con la locandina ho mandato l'e-mail con la locandina grazie dovreste averla ricevuta di sicuro e poi ci saranno vabbè Gian Giacomo Emigone Alessandro Agostino Raffaele Sciortino e Sara Reginelli e poi Giorgio che è già andato via ha fatto un'intervista online che manderemo a Luciano Canfora lo facciamo al Polo del Novecento nella sala nella sala grande quella con e diciamo abbiamo 154 posti dovremmo riuscire a starci e questo è il prossimo appuntamento poi quello successivo sarà invece di nuovo il terzo momento del nostro corso di formazione in cui abbiamo pensato di focalizzarci di più sul polo bellico torinese cioè su quello che accade a Torino perché effettivamente diciamo la controinformazione è fondamentale e farla da soli è molto difficile e quindi bisognerebbe riuscire anche a trovare dei modi per fare un po' di controinformazione che non sia semplicemente che sei bombardato di post su Whatsapp tutti i giorni ma riesci anche a dare un filo un senso a tutte le informazioni che hai io volevo chiedere un regalo ai tre relatori perché mi piacerebbe mi piacerebbe restituire anche questo momento agli altri componenti della mailing list l'altra volta io sono riuscita a fare un report perché c'erano le slide oggi io non ho preso sufficienti appunti per fare un report se voi poteste inviarci ma due cartelle non di più semplicemente per dire di che cosa avete trattato questo potrebbe essere diciamo noi abbiamo più o meno 450-500 persone in mailing list e quindi possiamo diciamo divulgare a tutti sarebbe non so se potete grazie volevo solo aggiungere una cosa in previsione anche del prossimo incontro ma in generale di una nostra attenzione civica per usare il termine di prima al tema della militarizzazione e di come la scuola venga risucchiata dall'industria del complesso militare tra i tanti articoli di Antonio che trovate sul suo blog e che sono anche su Accademia.edu ho visto ce n'è uno c'è un'inchiesta di numerose cartelle proprio sul PCTO e la guerra che è la guerra e la scuola e chiedo scusa e l'industria militare che passa in rassegna un po' tutta la penisola e ha alcuni casi torinesi o piemontesi segnalati una cosa che ci piacerebbe fare con la quale ho parlato a nome della scuola per la pace anche con l'assemblea antimilitarista torinese di cui saranno ospiti stasera Pippo e Antonio e di provare ad aggiornare perché questo tuo elaborato era del 2017-18 quello proprio ne hai fatto poi degli aggiornamenti sul rapporto scuola complesso militare industriale con tutti i progetti di Leonardo e questa cosa del liceo digitale le cose che ho detto ed è anche questo corposo noi volevamo darti una mano dicendo siccome nelle nostre scuole capita di tutto iniziare a fare un po' di controinchiesta io ad esempio per la mia scuola non è che riesco a sdraiarmi e a fermare le attività sempre però alcune cose le sappiamo e iniziamo a schedarle io devo dire nell'intervento l'avevo accennato una serie di intellettuali tra cui anche il professore Dorsi che conoscete perché ha insegnato storia in questa università a Torino hanno lanciato l'appello per questo osservatorio sui processi di materializzazione formalmente lo presenteremo alla Camera dei Deputati a Montecito abbiamo una conferenza stampa giovedì 9 in cui facciamo l'appello di costituire questo osservatorio a cui far arrivare da tutti informazioni su questo e poi ovviamente restituirle cercando poi di iniziare anche a porre una serie di questioni di tipo giuridico come quelle che accennavo io ma è legittimo o non è legittimo e vedere e trovare una serie anche di strumenti ottimo perfetto appunto perché il prossimo incontro sarà sul complesso industriale torinese e purtroppo alcune di queste aziende oltre a Leonardo c'è la Collins ad esempio che fa appunto collaborazioni proprio per i droni e altre tante aziende con le quali poi le convenzioni le scuole le fanno e quando fanno la convenzione a volte queste cose non passano neanche dal collegio perché lo sa il consiglio di classe e fine sì grazie allora io volevo innanzitutto ringraziare Enzo che ci ha seguiti in questo incontro il centro sereno che naturalmente ci ha ospitato in un ambiente gradevole e sul bancone di là ho lasciato pochi numeri di una rivista siciliana a cui collaboriamo praticamente tutti quanti se qualcuno fosse interessato quei numeri lì li lascerei lì se qualcuno fosse interessato basta scrivere una mail e noi ve li facciamo arrivare il costo è di 10 euro poi dopodiché facciamo anche degli sconti ai partecipanti ai seminari se volete darci un'occhiata questo numero è il numero sulla guerra come si chiama la rivista scorci è una rivista di cui non si sentiva la stretta necessità però c'è è bravo te beh chi ci vuole dare un'occhiata se per caso fosse interessato scriva grazie a tutti quanti arrivederci bene anche la durata è stata giusta dunque è una formazione veramente ibrida nel senso che non so cosa bene cosa so diciamo che i miei interessi sono prevalentemente letterali infatti su quella rivista di cui è Grazie.